Oggi è un evento un po' particolare perché questo più che un evento è una chiacchierata tra amici perché io, Eugenio e Arnaldo abbiamo condiviso tante cose insieme, siamo stati in galera insieme abbiamo combattuto nella Wagner insieme, insomma sono stati anni difficili però anni di ban insieme, insomma quindi abbiamo tante esperienze insomma in comune nel bene o nel male soprattutto nel male del dover avere a che fare con una continua censura e continue tagliole su internet che spesso vanno a inficiare insomma nel nostro lavoro. Di che parliamo questa sera? Parliamo del rapporto tra due mondi che paradossalmente devono stare separati e allo stesso tempo uniti devono ruotare tra di loro. Questi due mondi sono la controinformazione e la politica. Ora nella nostra area del dissenso che noi spesso chiamiamo ultimamente area del dissesto oi là? Saluto Gil, il nostro segretario di Pro Italia Roma, benvenuto. Adesso puoi mettere anche qua Gil, tanto sono questi tre posti che sono considerati tipo VIP, very important. Esatto. Dicevo abbiamo due mondi, la controinformazione e la politica che nella nostra area spesso e volentieri vanno a sovrapporsi tra di loro Ma questo, a mio avviso, poi ovviamente chiederò nomi e pareri anche agli ospiti Questo è un errore. Edward Bernays, che fu il padre degli Spin Doctor, forse alcuni di voi lo conoscono parlava di terza parte indipendente Cioè quella parte di informazione, intellettuali, artisti che ruota intorno alla politica ma non vi entra a fare parte E questa è la forza dei nostri nemici Io li chiamo nemici perché sono a tutti gli effetti dei nemici Questa è una guerra, punto, fine Non è ancora una guerra Oddio, stavo per dire, non è ancora una guerra con i carri armati In effetti lo è già Però diciamo che dalle nostre parti è una guerra sicuramente di informazione È una guerra di politica, è una guerra di movimenti Ok? Però i nostri nemici hanno la capacità di trarre l'infa Da un mondo che ruota intorno alla politica ma non vi entra in maniera diretta È fondamentalmente la grande lezione di Gramsci Quando Gramsci parlava dell'egemonia culturale Che cos'è l'egemonia culturale? Saper imporre una visione di mondo non attraverso la politica Ma attraverso tutto quel mondo che ha a che vedere dicevo prima Con la cultura, con l'arte, con l'informazione Con i grandi intellettuali Voi immaginate quello che è successo qualche giorno fa Ne parlavo con mio amico Stelio Alla manifestazione antifascista Ma voi sapete c'è stata questa Tipo Moira Orfei ogni tanto fanno questi raduni particolari In cui certo c'erano esponenti della più alta politica italiana C'era Ellis Schlein C'era Giuseppe Conte L'avvocato degli italiani Che poi ci ha fatto perdere la casa Tant'è che ci ha messo a tutti in arresti domiciliari Però è stato lui l'avvocato degli italiani Poi c'era Landini Il difensore dei lavoratori italiani Che va a braccetto con Mario Draghi Figura icone Quella foto è meravigliosa Cioè riesce veramente a sintetizzare un'intera epoca Landini Mi sono uscito da Castellino Esatto esatto Guarda caso Guarda caso Però in quella manifestazione Oltre agli esponenti politici Chi c'era? Andate a vedere chi c'era C'era ad esempio il mondo dei beni culturali Voi direte Il mondo dei beni culturali Cioè il reame dei precari I beni culturali sono il reame dei precari Cioè dei ragazzi che vengono sfruttati dalla mattina alla sera Per magari fare le loro 7-8 ore dentro un museo O si occupano magari di un parco archeologico Di una mostra Sono letteralmente sfruttati Quei ragazzi lì Vengono portati a una manifestazione Tra virgoletta antifascista A sostegno del partito Che più rappresenta La precarizzazione Del mondo del lavoro Questo ragazzi È un capolavoro Cioè noi possiamo arrabbiarci fino a un certo punto Ma questo è un capolavoro Capolavoro comunicativo Cioè un ragazzo che dovrebbe stare lontano Quasi fosse qualcosa di radioattivo Dal partito democratico Se crede nel lavoro vero Nei diritti sociali E va lì a manifestare Per il partito democratico Come ci sono riusciti? Ci sono riusciti con quello che manca a noi Saper distinguere Il mondo dell'informazione Controinformazione Cultura anche Dal lato politico Che non vuol dire Che sono due mondi che non si parlano Sono due mondi complementari Uno Da forza all'altro Uno mostra la via all'altro Soprattutto la cultura mostra la via alla politica Però Questo è un qualcosa che È difficile da fare Ed è difficile perché Sia il mondo della controinformazione Sia quello della politica Potremmo chiamarlo della contropolitica Ma in realtà la contropolitica E la vera controinformazione La fanno dall'altra parte Cioè è lì che fanno qualcosa Che non è né informazione né politica Poi magari ne parleremo Però questa è una parte d'Italia Che deve capire chi è Di cosa ha bisogno E quali sono le sue armi Quindi partirei da Arnaldo Vitangeli Che ha il suo canale Che molti di voi già conoscono La finanza sul web Fa un eccellente lavoro Veramente di analisi E di informazioni Su quello che accade Giorno dopo giorno Infatti non dorme più Un uomo finito Un uomo che ormai va avanti Con strane sostanze Caffè Sì Chiamiamolo caffè Sì sì Chiamiamolo zucchero E partirei Guarda che parola che ci crede No è una battuta Facebook No siamo già stati Già bannati Già bannati Già mi arriva la querela a casa Taglia tutto Taglia 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 Non è mai successo Chiamate pari de parte Che fa Pari de parte Che comincia a tagliare Vabbè Come fa de parte Puente ci guarda Ah puente ci guarda Puente ci osserva Sì puente dentro di noi Allora detto questo Volevo passare la parola Ad Arnaldo Proprio con questa domanda Cioè A parte lo stato A tuo avviso Della controinformazione E appunto Quello che dicevo prima Questo binomio Controinformazione politica Potremmo chiamarla Controinformazione Controcultura E attivismo E' un binomio Che in questo momento Sta funzionando O a tuo avviso Invece qualcosa Magari negli ultimi mesi Si è andato un po' A ingrippare Allora Premesso che Questa divisione Che è molto corretta Che tu hai Hai detto poco fa Non è poi In realtà Praticata In termini Assolutamente Precisi Anche nel potere Mainstream Pensiamo A Lily Gruber Che è stata Parlamentare europea Con il Partito Democratico Pensiamo A Davide Sassoli Che è stato Anche lui All'Europarlamento Con il Partito Democratico Pensiamo A tanti Esponenti Del mondo Della cultura Anche Dello sport Anche Dello spettacolo Che poi dopo Si sono Si sono candidati Con forze politiche Principalmente una Ma insomma Comunque all'interno Di quel Di quel mondo Politico Per quello che riguarda Il nostro Specifico mondo Diciamo che Ci sono due Tipologie di problemi Uno Sono le forze Che noi abbiamo Cioè è inutile Nascondersi Che siamo Pochi E male armati Visto che vogliamo Che vogliamo parlare Di guerra In un campo di battaglia Difficilissimo Che ci è ostile Nel senso che ovviamente Nessuno di noi O degli altri Esponenti Del mondo Dell'informazione Libera È in televisione Nessuno di noi Ha giornali Eccetera Siamo su piattaforme Internet Social Che ci odiano E che cercano Di continuamente Di limitare La nostra visibilità Quindi c'è già Di per sé Una Come dire Una discriminazione Nei termini Di quanto Noi possiamo Essere visibili E poi c'è Una continua Persecuzione Che assume Ormai anche Delle Degli aspetti Comici Nel senso che Per dire L'ultima Che a me è successo Personalmente Ho intervistato Franco Fracassi Sulla questione Dei Biolab Che vogliono fare Ve lo Lo dico Per chi non lo sapesse Vogliono aprire Un Biolab Di livello 3 Di sicurezza A Pesaro E contro Questa decisione Scellerata Una serie di attivisti E di personaggi Del mondo dell'informazione Si stanno E si sono mobilitati E io ho intervistato Franco Mi hanno Cancellato il video Normalmente Quando ti cancellano Un video Ti danno Una settimana Di sospensione La prima volta Due settimane Di sospensione La seconda volta Quindi non puoi pubblicare Non puoi scrivere Non puoi avvertire Il tuo pubblico Che tu non sei Online Non perché sta in vacanza Che noi non sappiamo Cosa significhi Ho sentito Di questa leggenda Delle vacanze Ma perché Non ci è permesso Pubblicare Alla terza Terzo giro Chiude il canale In questo caso Io che ero già Il primo Quindi il secondo Devo stare fermo Due settimane Mi hanno cancellato Il video Ma mi hanno scritto Un messaggio Dicendo che Loro immaginano Che io abbia violato Le norme Della community Senza volerlo E senza rendermene conto No lo volevo Me ne sono reso conto Però stranamente Mi hanno graziato Non so se dipende Dalla concorrenza interna Che iniziano ad avere Problemi finanziari Problemi di pubblico E quindi vogliono Tenersi buono In pochi Chi porta numeri Però questo è Noi stiamo In un terreno Molto ostile E siamo pochi Anche per questo C'è una sovrapposizione Tra personaggi Del mondo della cultura E dell'informazione E personaggi Del mondo della politica In realtà La cosa Non è andata Diciamo Come doveva andare Nel senso Che poi Alla fine E' inutile Nascondere L'insuccesso A cui Le forze Politiche I partiti Che vengono Chiamati Dell'antisistema Io li definirei Partiti democratico Costituzionali Perché gli altri partiti Sono antidemocratici E anticostituzionali Quindi anziché dire Noi siamo L'antisistema Noi siamo Le forze Democratiche E costituzionali Che credono Nell'autodeterminazione Dei popoli In primo luogo Il popolo italiano Il che Necessariamente Confligge Con tutte quelle Che sono Le scelte politiche Degli ultimi Trent'anni In questo senso Siamo Antisistema Però Le cose Sono andate Molto male Nel senso Che sia elettoralmente Ma sia soprattutto Quello che è successo Dopo Ha determinato Una situazione Di reflusso Rispetto A quelle forze Politiche Che si erano formate Che ora sono Addirittura più deboli Di quando Non sono riusciti Ad entrare in Parlamento In che modo Questo si collega Con la libera informazione Secondo me C'è stata Una mancanza Da parte Di tanti Esponenti Della libera informazione Che non hanno fatto Quello che Diceva Matteo Cioè In primo luogo Il cane da guardia Non solo del potere Esterno Ma anche di chi Si candida A gestire Per conto nostro Il potere A questa mancanza Perché poi Siamo un paesino Quindi Siamo quattro gatti Siamo tutti Bene o male amici Ci conosciamo tutti E quindi C'è anche una difficoltà Di Di critica Rispetto a Amici E a Compagni Di una Di una lotta Ma In realtà La stampa Dovrebbe fare Anche questo Però c'è anche Una profonda Immaturità Dell'elettorato Barra pubblico Che coincidono E questo è il problema Il pubblico Della nostra informazione E gli elettori Dei Diciamo così Nostri partiti Coincidono E C'è un certo Livello di immaturità Tale per cui Molto spesso Inconsapevolmente Tanto i personaggi visibili Quanto Gli elettori I cittadini Gli spettatori Applicano quelle stesse Regole di tifo Calcistico Di Delega A priori E senza verifica Di quello Che si sta facendo Di Innamoramento Rispetto a personaggi Che vedono Su uno schermo Non della televisione Su rete 4 Ma Del Dei canali Della libera informazione E Come è stato Per il 5 stelle Come è stato Per la lega Eccetera Innamorati Si di Un simbolo Giustificano Qualunque cosa Perché quelli Sono i nostri E gli altri Sono i nemici Dobbiamo essere Molto Seri Nel giudicare Noi stessi E di giudicare La nostra parte Perché io Più ancora Del di rilevanza Delle forze Antisistema Temo La Trasformazione Antropologica Di queste forze Laddove Arrivino A qualche Forma di potere Perché Già solo Quando Si è Subodorato Che forse Si poteva Entrare In Parlamento Si è Uscito Il peggio Del peggio Da tutti E questo è un Serio problema Verso cui Dobbiamo Maturare Degli anticorpi Perché io Non credo Nei vaccini Facciamo un applauso Perché L'intervento È stato Vabbè La clac La paghi E deve fare Il suo lavoro Esatto Poi passo Rimando a te Uguale La stessa domanda E poi Invece Ricomincio con te Perché ho una domanda Anche abbastanza Provocatoria Nel senso So con due persone Che sono intelligenti Quindi coglieranno La provocazione Però Volevo sapere Se anche tu Hai qualcosa Da dire Sulla domanda Che ho appena fatto Guarda allora Arnaldo Ha parlato Di responsabilità Ovviamente Secondo me Oggi Qua È abbastanza inutile Andare a cercare Le colpe Sicuramente Sarebbe da fare Una bella analisi Sulle responsabilità E Ad un'analisi Attenta Io penso che Il vero problema Di questa Cioè che noi Abbiamo affrontato Tra agosto E settembre A ridosso Con le elezioni È stato un problema Veramente di coscienza Lo direbbe Malanga Quindi Su Un piano Di polarizzazione Cioè Quella che È Quello che è Un'impostazione Che fa molto comodo Al potere Se vogliamo dirla così Che è stata In qualche modo Con cui siamo stati educati Quindi a polarizzarci A prescindere Ha portato poi Ad una sorta di Fidelizzazione A prescindere Nei confronti Di alcuni personaggi Nei confronti Di alcuni progetti E questa qui È stato probabilmente L'elemento Che ha fatto poi Scoppiare tutto Perché Se non ci fosse stato Questo elemento Noi probabilmente Saremmo stati più capaci E più incisivi Nel far comprendere Sia agli elettori Quindi al nostro pubblico In qualche modo Sia ai soggetti Interessati a livello politico Che quella non era La strada giusta Perché Il Far vedere Chi ce l'ha più grosso Cercando di Vantare il proprio pubblico I propri numeri Come Forza Diciamo Che ti dà diritto A poter essere tu Il soggetto Piuttosto che Quello che Piuttosto che Magari la persona Che Disincentiva Altro tipo Di iniziative Perché deve portare Il consenso a sé È quello poi Che ha rotto Un po' tutto il giochino Noi all'inizio Della Diciamo Campagna elettorale Quindi appena hanno Sciolto le camere Abbiamo passato Pomeriggi interi A parlare al telefono Noi tre E analizzavamo Proprio questi aspetti Dicevamo Ma Come facciamo adesso Cioè come Come funziona adesso Ragazzi Perché Qua certo Ottimo Ci stanno le elezioni Però così Dove si va Così non si va da nessuna parte Così Prendiamo solamente Tanti tanti schiaffi Sarà un bel bagno di sangue Perché divisi Non possiamo che dare L'idea alle persone Che Non serve a niente Questa cosa qua Addirittura contrapposti Contrapposti Ma infatti Una guerra Delegittimando Sugli uni con gli altri Ma se Se voi ci pensate Oggi Siamo al 7 di marzo Provate a portarvi Un attimo Con la mente Al 7 di marzo Dell'anno scorso Se qualcuno Vi avesse detto Tra sei mesi Ci saranno Alle elezioni Messora Alleato con Toscano Contro Paragone La Cunial What? Come scusa? A marzo scorso Noi non avremmo neanche Pensato Ad un'opzione Di questo genere Eppure Quello che poi È venuto È venuto fuori E Ritornando alle responsabilità Sicuramente La più grande responsabilità Ce l'abbiamo noi Che facciamo Gli operatori Di questo settore Perché Evidentemente Non siamo stati capaci Di far comprendere Qual era il rischio Di quella polarizzazione In quel momento Che poi Ce lo porteremo dietro Per i prossimi cinque anni Che poi Ci porteremo dietro Anche magari Le etichette di Ah tu vedi Tu sei quello che era Per il non voto Certo che ero Per il non voto In una situazione Come quella Chi vuoi votare Penso che fosse Eh Tanti ci vado La domanda No 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 La mia domanda Era Allora A parte che Un applauso Un applauso Anche E così paghiamo Anche questa Di crack Perché sono due Sì 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 Poi Vi do queste Poi vi pago in lire Poi vi pago ovviamente Perché cioè Che sovranista sarei No giustamente No io sono D'accordo Diciamo All'85% Con quello che Ho sentito E questa è una cosa Positiva Sì sì 85 per 84,7% Perché Tante volte Voi avete visto Salire sul palco Persone Che si davano ragione A vicenda Quella roba lì Non serve a niente Quello che è mancato Nell'area del dissenso È stato anche Il dibattito interno Perché come dice Arnaldo Si sono scannati Tra di loro Ma magari Si fossero Realmente Scannati Tra di loro Cioè io Con una persona Che non la pensa Come me Dal punto di vista Politico ideologico Ho molto piacere A confrontarmi Anche duramente Perché Deve nascere Una nuova sintesi Di pensiero Che in questo momento Manca Invece c'è stata Una lotta Quasi tra polli Tra galli È stata una cosa Degradante Non c'erano elementi Politico ideologico No No Non c'era La politica Non è mai No No Ma non solo Ma non solo Non c'è stato mai Neanche L'approfondimento Poi di quelle differenze Che ci sono A livello Anche ideologico Magari non sui grandi temi Ma sui temi Che poi diventano divisivi E quello è stato messo da parte Ci si è scannati per altro Per cose molto basse La domanda invece Che faccio Sia ad Arnaldo Che a Eugenio Qui sta la mia prevocazione Noi spesso In Pro Italia Parliamo del Pericolo Della Post-storicità Che cos'è la post-storicità È quel pensiero Che purtroppo Ha permeato le menti Di gran parte Degli occidentali Almeno Almeno Dalla caduta Del muro di Berlino Ad oggi Che cos'è la post-storicità È la convinzione Direbbe Fukuyama Che la storia è finita La storia è finita Tutto è già deciso La strada è quella È stata spianata Ha vinto un modo solo Di intendere il mondo Un modo solo Di intendere l'uomo Un modo solo Di intendere la società E quindi al massimo Si può decidere Di o abbracciare In maniera fanatica Questa visione di mondo E conosciamo Chi l'ha abbracciato In maniera fanatica Anche in maniera Violenta Oppure Come dire Sopravvivere Nicchiare Abbozzare No Tentare di Correggere qualcosa Ma tanto La traiettoria è quella E questo che cosa Ha generato Da un punto di vista Prettamente politico Ha generato Una falsa scelta Tra due sfumature Della stessa idea Centro-destra Centro-sinistra Non sono uguali Peggio Sono complementari Questo È il capolavoro Perché centro-destra Centro-sinistra Quando si espongono Tu vedi anche Delle differenze E un personaggio Una persona Che non approfondisce Può anche cascarci Si vede che sono diversi No Faccio un esempio La strage Dei migranti Di Crotone Io peraltro Sono stato a Crotone Proprio Sabato Città che peraltro Sta morendo Come tante altre città Del sud Italia Sta morendo Crotone In maniera Deva Siamo arrivati Era sabato pomeriggio Sembrava una domenica Post-apocalittica La domenica Del post-apocalittico È Crotone Una cosa tristissima Veramente Una città che Ha una grande storia Vabbè Lasciamo perdere Ora Quella strage lì Come è stata vista E affrontata Dal centro-destra E dal centro-sinistra Centro-destra Ha detto Ci sono di mezzo Le ONG È un problema Di flussi migratori È un problema Di gestione Dei flussi migratori Quindi ci vuole Più Europa Il centro-sinistra Ha detto Ecco Il governo Non li ha voluti salvare È un problema Della guardia costiera È un problema Anche lì Di gestione Dei flussi migratori Quindi ci vuole Più Europa Che cos'è questo È fondamentalmente Il culto Questo è il grande problema Del nostro paese Ma a livello culturale Prima ancora che politico Il culto del vincolo esterno Qualcun altro Ci deve pensare E ragazzi Questo è entrato nella mente Non pensiate Che sia solo Un problema di sinistra Globalista Da quelle parti Sono semplicemente più Palesi Nel modo di mostrarlo Ma a destra È uguale Perché Io ho fatto pure un video Qualche giorno fa Il pdino di centrodestra Cioè quello che ti fa I discorsi Sul patriottismo E sulla nazione Ma poi alla fine Beh ma alla fine È giusto Che sia l'Unione Europea A scegliere Quando e come Dobbiamo spendere I nostri soldi È giusto togliere Quella o quella misura Perché gli italiani rubano Cioè scusa Ma vota pd Che mi fai I discorsi Sulla patria Sei quello Ok Ma alla fine Quello che permia Questi discorsi È Il concetto Proprio Della postolicità Non si può fare Più niente There is no alternative E questo Attenzione È entrato Nelle menti Anche di coloro E qui sta Nella mia domanda Anche di coloro Che si professano Come risvegliati Come coloro che dicono Io non sono la pecora Che sta di fronte Alla televisione Io sono quello Che ha preso coscienza Di questo Di questa Di questa deriva Io non sono come loro Io sono un resistente Io sono Anzi sono un disallineato Un antisistema Ma Sono convinto Che tutto sia Deciso dall'alto E dunque Non vi sia alternativa Partono da premesse diverse Arrivano alla stessa conclusione E qui secondo me È un'autocritica Che dovrebbe fare Il mondo antisistema Inteso come Controinformazione O controcultura Forse Giustamente Denunciando Le storture Del sistema Ha lasciato Troppo intendere Che Il margine di manovra Non esistesse Nel senso che Un conto è dire A Davos Hanno una bella idea Tra virgolette Di mondo L'agenda 2030 No È molto precisa È un'idea Precisissima Di come intendono L'uomo La società L'economia Non gli si può rinfacciare Come dire La mancanza di coerenza Sono Da questo punto di vista Sono straordinari Ma il fatto che a Davos Scelgano questo Non vuol dire Che non vi siano Spazi di manovra Non vuol dire Che non si possa Prendere in mano La storia E vi faccio un esempio E poi do la parola Ai due ospiti Vi faccio un esempio Proprio di queste ultime ore Macron È andato in Congo So se l'avete visto A parlare Appunto Col primo ministro Congolese Feliz Non so come cacchio sia Un nome impronunciabile Andando lì Tutto bello tronfio Stiamo parlando Del premier Di una grande potenza La Francia Che peraltro In Africa Ha ancora Purtroppo Una grande Una certa Chiamiamola influenza Ma in senso Proprio di malattia Eh sì È quella Non quell'influenza No quella in Africa Non se ne sono No 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 Quella Vanno alla grande Dovano morì tutti Esatto Ma sì Sono morti Poi l'hanno subito Rimetti Sì sì Esatto 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 Ora Macron È andato lì Tutto doppio petto Ha fatto il suo discorso Sulla grande Perché i francesi A differenza nostra Comunque hanno una certa idea Di sé Diciamo che stanno All'estremo opposto Noi ci consideriamo I peggiori Sulla faccia della terra Stupidamente I francesi da sempre Si sentono Come si dice Tecnicamente Sto cazzo Esatto In fatto Toccherebbe anche Tra lullo in francese Perché suonerebbe bene Comunque grande Fondamentalmente Se coq Signori Se coq Se credono Se coq Bellissimo Questo quando parleremo La prima volta Con l'ambasciata francese Subito Chiudiamo subito I primi rapporti Esatto Ora Quando parleremo Quando Matteo è già proiettato Il ministro degli Esatto Si 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 Un attimo di distrazione Col mio fare poi diplomatico Quindi si Ecco esatto Esatto Ora Al di là di questo Macron Ha fatto Un discorso Tutto pomposo E a un certo punto Una delle giornaliste Che era lì presente Ha parlato Di Di modo di fare Delle elezioni Con un compromesso All'africana Ha detto Come per di Le classiche elezioni Con qualche broglio Dietro Il primo ministro Congolese Stiamo parlando Del Congo Io non so neanche Dove sia Nella classifica Dell'economia Il Congo Non so neanche Dove sia Nella classifica Delle potenze militari Il Congo Il primo ministro Congolese Si è girato Verso Macron Gli ha puntato Il dito contro Gli ha detto Voi europei Dovete piantarla Di guardare All'Africa Con questo fare Paternalistico Ipocrita Perché peraltro Quando si parla Di elezioni rubate Quindi non venite A farci la lezione Soprattutto perché Poi continuate A sfruttare Le nostre terre Il primo ministro Del Congo Ok Ora se uno Dovesse ragionare Come purtroppo Si ragiona Spesso anche Nell'area del dissenso Direbbe No Non lo può fare Noi abbiamo Le basi americane Noi non possiamo Ma figurati Ci dichiarano Guerra il giorno dopo Cazzata Perché anche una presa Di posizione Di coraggio Anche se poi Nello stato Dei fatti Non effettivamente Non porta Un'azione vera e propria Comunque Dà vita Una scossa Quell'azione Di coraggio Crea Un movimento Che ha una Ripercussione Internazionale Se oggi Il governo Meloni Segue risata Dicesse La chiami Dicesse Noi Da domani Non inviamo più Armi In Ucraina No Ora è ovvio Che un elettore Di centrodestra Di centrodestra Di sinistra Dice No Non lo deve dire Perché è convinto Che non debba farlo No Quelli che abbracciano Fanaticamente La visione unica Di mondo Ma anche quello De antisistema Ti dice Ma non lo può fare Figurati La ammazzano Il giorno dopo Aperta parentesi Se tu ti dichiari Patriota Devi mettere in conto Che ti possano ammazzare Perché Enrico Mattei Lo hanno ucciso Perché Thomas Sankara L'hanno ucciso Venitemi a dire Che hanno fallito Nella loro vita Chiusa parentesi Ora Se la Meloni Se non uscisse Con questa dichiarazione Anche se poi Alla fine L'Italia Portasse ancora Armi in Ucraina Questo Genererebbe Un terremoto Dal punto di vista Diplomatico Perché aprirebbe Le porte Ad altre nazioni Che direbbero Ma L'ha detto Oh l'ha detto Cazzo L'ha detto pure L'Italia I più realisti Del re Quelli che si darebbero Fuoco Se glielo chiedessero E magari in Germania Magari in Spagna Magari in altre parti D'Europa Comincerebbero a muoversi Delle forze politiche O dei pensatori Questa è la forza Di chi dice Io non sono fuori Dalla paluta epostorica La storia Ce l'abbiamo ancora In mano noi Quindi la mia domanda E a questo punto Riparto da D'Arnaldo È questa Forse Abbiamo veicolato Abbiamo in maniera Ovviamente Collettiva Non faccio nomi Anche perché poi C'è chi di più Chi di meno Chi anche per niente Forse abbiamo veicolato Quest'idea Che tutto sommato Le cose siano già scelte E questo Forse Ha portato tanta gente A tirarsi indietro Dall'attivismo Vero e proprio Guarda Su questo Ti dico la verità Non credo Non credo nel senso Che Dati alla mano Questo non è successo È vero È vero L'equazione Tra la similitudine Tra Tina There is no alternative E Non c'è speranza Cioè Anche se sono Anche se sono Diciamo No Nel senso Non c'è Alternativa Il Tina È il sistema migliore Tra quelli possibile Non c'è speranza Porta alla stessa conseguenza Evidentemente Ma su una premessa diversa E cioè Il sistema Fa schifo Ma Sono troppo forti Per noi Però Questa cosa Per quello che riguarda La libera informazione Io non l'ho vista Nel senso che Alle elezioni Quasi tutti Se non Cioè Con pochissime eccezioni I protagonisti Della libera informazione Erano addirittura O candidati O appoggiavano Indirettamente O direttamente Questo O quel Partito politico Questa o quella forza Ora è chiaro Che se tutti candidi Il tuo slogan Non può essere Io mi candido Però tanto Anche se mi votate Non c'è niente da fare Quindi state bene a casa Non è Non è Una piccola aggiunta Una piccola aggiunta Perché quello che stai dicendo tu È verissimo Infatti Si è notato Durante la Le elezioni Che quel mondo lì Che aveva Mi avviso Veicolato l'idea Del there is no Antisistema Quindi sempre di Tina Esce fuori Nel momento in cui invece Ha preso L'iniziativa politica E abbiamo visto Poi i banchetti Gente che si è spesa Sotto il sole A raccogliere i film Quello è stato forse Il momento più bello Perché quello è stato Proprio l'attivismo Vero e proprio Però Molta parte Del mondo antisistema Ha reagito In maniera negativa Di fronte a questa Presa politica Cioè al di là Dell'aspetto Del non voto Che però Eugenio ha Giustamente Non la intende In maniera Antipolitica La intende In maniera strategica Però io ho visto Una sorta di Rigetto Del concetto stesso Di politica Nel senso che Di vecchia politica Matteo Di vecchia politica Sì sì Esatto Ma nel senso Se io faccio politica Per forze di cose Vecchia politica No Sinceramente Non la vedo così Nel senso Dal punto di vista Proprio cronologico Di quello che è successo È vero Che c'è stato Il picco Di passione Letteralmente Nella fase Di raccolta Delle firme Cos'è stato Che poi Ha traumatizzato Non Non gli influencer Non i personaggi Dell'informazione Perché non ce n'è Uno solo A parte quelli Piccolissimi L'assenza totale Di democrazia All'interno Di questi progetti Sì ma Questo Io ti posso dire Sì sono d'accordo Con te Come male Fondamentale Ma non è questo Che hanno visto Le persone Perché comunque Non sono dentro Quindi non è che Vedono quello Che vediamo noi Però Che cos'è Cos'è stato L'effetto traumatico Le candidature Ragazzi Perché nel momento In cui Le candidature Sono Quindi non è una questione Di Per me Tina eccetera È una questione Di mancanza Di democrazia E partecipazione All'interno di quelle Che erano forse Personalistiche È inutile Che ci prendiamo In giro Il partito di Paragone È il partito Di Paragone Non c'è rimasto Nessuno Di quelli che Lo hanno spinto E non è un problema Perché è il partito Di Paragone Dal mio punto di vista Un partito personalistico È la negazione In sé del sovranismo Perché il sovranismo Democratico E costituzionale È proprio L'idea L'idea Di base Quello della Sovranità popolare Ora se io mi batto Perché gli italiani Tornino ad essere Sovrani Del proprio destino nazionale Figuriamoci Se posso Accettare Che questo Non avvenga Nel partito Che dovrebbe esserne Lo strumento È ridicolo Da questo Sono derivate Una serie di candidature Indegne Di gente Che non c'entrava Nulla con il nostro mondo Di gente Che era palesemente In cerca di poltrone Questo ha provocato Da un lato Uno shock A cui si è giunto Il fatto Che proprio perché A quel punto Era una lotta Di poltrone Hanno iniziato A darsele Di santa ragione Perché un voto Per te È un voto In meno Per me E un voto In meno Per me Può essere Quello che Non mi consente Di passare La quota Del 3% E quindi Di mettere Il culo Sulla poltrona Da parlamentare Invece che rimanere Un signor nessuno Questo è Il problema Di fondo Cioè Mi rendo conto Che lo ripeto Costantemente Avrò stufato tutti Però La mancanza Di democrazia interna E partecipazione Trasparenza Nei processi decisionali E collegialità Nell'azione politica Non può portare A nessun tipo Di successo Per cui Quando tu dici La gente Ha una reazione Antipolitica No Ha una reazione Antipolitica Quando tu ti comporti Come il PD Allora sì Soprattutto perché Noi abbiamo avuto Il 5 Stelle La Lega Io ho sentito In certi casi Noi ci sentiamo Addirittura Personalmente responsabili Perché qui In questa libreria Anni fa Io ero con Rinaldi E Amodeo E Amodeo Amodeo vabbè E io stavo dietro A quella delle camera Eh appunto Confessiamo Offesso E mi pensi Ora Amodeo È una persona Serissima Un amico Eccetera Rinaldi Bagnai Io ho sentito Bagnai Che ha detto L'altro giorno Che serve più Europa Ora Quando tu sei stato Inculato Senza Valsellina Per due volte Ebbè È difficile Che ti fidi E se tu candidi Personaggi Che immediatamente Lasciano intendere Un processo Di assimilazione E di coaptazione All'interno Del potere E hai atteggiamenti Strutturalmente E profondamente Neoliberisti Per cui ti fai concorrenza L'uno con l'altro Perché E inevitabilmente La gente scappa Io sono assolutamente Convinto Che Il giorno prima Della pubblicazione Delle liste E prima di tutta Una serie di altri Eventi Che poi si sono verificati Il numero di elettori Di tutti e tre I partiti Era molto più alto Che il giorno dopo Evidentemente Si è pensato Che sulla base Appunto Di quella divisione Da tifoso Si sarebbe Soprasseduto Su tutto Perché adesso Andiamo in Parlamento Gli facciamo un culo così Con la Lollobrigida O con Chi ci aveva messo Paragone Ce n'erano Tanti Ce n'erano tanti Invece no La gente Soprattutto La nostra Gente Di fronte a questo Tipo di approccio Ha non gli occhi aperti Ce li ha spalancati Questo è un problema Perché ha creato Delle condizioni Effettivamente Da cui è Complesso Risollevarsi Perché In una situazione Di mancanza Di fiducia Per quello che era successo Con le cosiddette Forze sovraniste O populiste Prima Le cinque stelle La lega Abbiamo mandato Bagnare Abbiamo mandato Borghi Abbiamo mandato Tutta questa gente Che poi arrivata lì Ha fatto esattamente L'opposto Di quello che ci aveva promesso E allora è ovvio Che la gente Non firma più Cambiali in bianco Il problema È che questi partiti Chiedevano Ai militanti E agli elettori Cambiali in bianco No Non se ne firmano più Questo è il vero problema Guarda Secondo me Ti passo subito la parola In verità Il tuo discorso Si collega col mio Cioè non è contrapposto Perché come sai Anche come Pro Italia Abbiamo spesso detto Mancanza di democrazia interna Mancanza di una vera struttura partitica Perché un partito Non è un fan club Di due o tre persone Un partito Deve essere in grado Di Ovviamente Ha una gerarchia È evidente La segreteria nazionale L'assemblea nazionale I vari segretari sul territorio Ma il partito Deve avere Una gerarchia Che può essere scalabile Perché questo Non può essere Decisa dal basso Non so È questo il discorso Decisa dal basso Questo discorso Cioè nel senso Che deve essere in grado Di generare Nuova classe politica Che viene dal basso Viene formata Da una scuola politica E piano piano Raccoglie consensi O scala quella gerarchia Ma non tanto Per una questione personale Nel senso Che esce fuori La persona più brava La persona più efficace Esatto Mentre invece Queste forze Spesse e volentieri Sono state Dei fan club Con una persona Due persone Tre persone Intoccabili Una cerca di yes man E una base E questo è il discorso Che faccio io Perché tu dici Sì però Dopo un po' Si sono accorti Un po' tutti quanti Che c'era puzza Di vecchia politica Questo è vero Ma attenzione È anche vero Che buona parte Di quella base Permeata Di quella post-teoricità Di cui ti dicevo io Non ha chiesto Non ha invocato Preteso Che la propria forza politica Posso prima di passarti Perché mi ero dimenticato Il passaggio Con questo fatto Della storia Vai Io Anche su questo Guarda Ci ho fatto un pezzo Oggi Sul povero Fukuyama Ce l'hanno detto In 92 Non ci crede più nessuno Noi siamo nel bel mezzo Di una guerra mondiale Ma come si fa a sostenere Che la storia è finita Noi ci troviamo Nel bel mezzo Di una Trasformazione epocale Di una Violenza Inimmaginabile E anche quello A cui tu facevi riferimento Rispetto al Primo Ministro del Congo Non è tanto Che il Primo Ministro del Congo Ha fatto un atto di coraggio Da cui può derivare Un affrancamento Di alcuni paesi africani Dal dominio europeo È già in atto Il motivo per cui Il Presidente del Congo Può puntare il dito A Sarkozy E dirgli Fa la finita Di romperci i coglioni È perché Già hanno detto No alle sanzioni Già hanno detto No a Per quel poco Che può contare All'invio di armi Cioè Già hanno Hanno iniziato A stringere Rapporti Sostanziali Con la Cina Prima di tutto Che in Africa Ha creato Tutta una serie Di realtà economiche Infrastrutturali Città vere e proprie Eccetera Con la Russia Che ha protetto E difeso Tutta una serie di realtà All'interno Per esempio Del vicino oriente Pensiamo alla Siria Pensiamo allo Ieme E quindi Già è in atto Quel processo Il motivo per cui Da noi Non è minimamente in atto Secondo me Consiste nel fatto Che molti Temono Perché comunque Noi siamo Uno dei paesi Più ricchi del mondo Ragazzi Non siamo il Congo E all'interno Dei paesi occidentali È vero Che c'è La precaria Che sta L'amministrazione Antifascista Però è anche vero Che l'Italia È un paese Che ha ancora oggi Una grande ricchezza Ed è un paese anziano E le persone Anziane E ricche Tendenzialmente Non vogliono Fare la rivoluzione E anzi La vedono come un pericolo A che azione È dentro Allora Tipo te Guardate voi Che Che ad esempio Non ti sei neanche accorto Che Sarkozy è in prigione Adesso c'è Macron Sì È l'Italia Però vabbè Hai detto La Gallia Poi Non la Francia Allora Un sacco di roba Avete detto Il regno di Francia Allora Quando abbiamo fatto Quella cosa Con Rinaldi Amoteo Era marzo del 2019 E Un mese dopo Abbiamo fatto Racconti del 2033 Sì Che è stato Una sorta di Messa in scena Che abbiamo fatto Raccontando un possibile futuro Che poi ci ha cascato addosso Come se fosse Dimartendoci da morire Però poi dopo È stata un po' Un po' meno divertente Un po' meno divertente Perché un po' tutto Quello che avevamo detto Lì dentro Poi si è realizzato Pochi mesi dopo Non so se vi ricordate Abbiamo fatto Un evento Che non è mai andato in onda In realtà Che si chiamava Infotech E girava proprio Eravamo io e te Non è mai andato in onda Quello eravamo io e te Rocco Bruno E perché mi hai fatto perdere Francesco Neri Dai fammi Fammi dire questa cosa Francesco Neri E Glauco Benigni Non ti piace così? Ok In quel caso lì Noi parlavamo proprio Dell'ineluttabilità Non so se vi ricordate Queste cose Era un concetto Che proprio Pochi giorni prima Avete tirato fuori Tu in un video Ora Qual è Perché parto da qui? Perché a quanto pare Questo è un Un sentimento Più che un concetto Che comunque È quello di cui Stiamo parlando adesso Cioè Questo post-storicismo Porta poi Una sorta di sensazione Di Ineluttabilità Degli eventi Ora Voi citate Grandi scrittori Io non sono così colto Cito Ray Dalio Che è uno degli investitori Più importanti al mondo Che ha scritto un libro Che si chiama Il mutevole ordine del mondo Dove lui descrive Una serie di parabole Ascendenti e discendenti Dei vari imperi della storia Dall'impero Dall'impero Olandese In poi Fondamentalmente E descrive come Quando queste parabole In qualche modo Si incontrano Quindi la parabola Discendente Di un determinato impero Con quella ascendente Di quello che verrà successivo Avvengono Cosa secondo voi Grandissimi scontri Ora È Ineluttabile Il fatto che In questo momento Siamo in un momento Di Di Snodo Tra Diverse epoche Di influenza Quindi Sta andando a terminare L'epoca del dominio Del dollaro Fondamentalmente Quindi Con gli Stati Uniti E diciamo Tutto il blocco Anglosassole Al centro Verso un mondo Multipolare Decisamente Differente Rispetto a quello Che abbiamo conosciuto Fino ad oggi Molto probabilmente Con A locomotiva Diciamo La Cina Cina Arabia Saudita Non l'India Perché ancora Stanno molto Indietro Al livello Di progresso E alcune entità Diciamo Emergenti Ora Questo è Un processo Che non possiamo Ignorare Quando facciamo Questi ragionamenti Ora Voi sapete Io quello che posso Pensare Di una Meloni Piuttosto che Del centro Destra Del centro Sinistra Quello che è Fatto sta Che in un Quadro Come questo Osservati Gli eventi Attraverso Questa lente Tante cose Prendono Trovano Spiegazione Secondo me Anche L'atteggiamento Che ha In questo momento Il governo italiano Ad esempio Nei confronti Del blocco Internazionale Perché Perché Nel momento in cui Tu ti rendi conto Che sta avvenendo Un cambiamento Di questo genere Essere posizionato male Passatemela come termine Ti mette a grande rischio Cioè Ti mette a rischio Di trovarti Poi in quel blocco Di paesi Che successivamente Alla transizione Si ritrovano Nelle condizioni Di Che ne so Dell'Albania Negli anni 90 Piuttosto che Cosa che Per noi sarebbe Molto difficile Perché c'è Tutta un'altra Infrastruttura Tutta un'altra Economia Però Secondo me A certi livelli Alcuni ragionamenti Se li stanno facendo Sotto questo punto di vista Questo Non per giustificare Ma per cercare Di comprendere meglio Come stanno avvenendo le cose La verità potrebbe stare Effettivamente nel mezzo No ma questo è verissimo Nel senso Non bisogna Se posso Dico Infatti La cosa bella Di questo dibattito Come vedete Che Siamo tre persone Non è che non la pensiamo In maniera diversa Però vediamo le cose Da tre punti Da triangolazioni diverse Che va bene Perché noi viviamo Una realtà tridimensionale Forse anche di più Cioè è normale Vedere le cose Da punti di vista Diversi Secondo me Infatti Diciamo il punto di arrivo Dovrebbe essere Prendere coscienza Che Né C'è il Tina Cioè tutto è già deciso Tutto è già scelto C'è solo una strada Né c'è La visione Che poi Paradossalmente È anche quella Del lettore Tipo di open Cioè di quello Che dice Se vabbè Gomblodo Cioè di quello Che dice Ma figurate Se esistono queste realtà Che dall'alto Decidono tutto Nel mezzo In media Stat In questo caso Più che Virtus Veritas Cioè Nel mezzo Sta Ciò che è reale E la realtà È che Esistono gruppi Di potere Sovranazionale Privati Che hanno una Grossa influenza Spesso ne parliamo Ma allo stesso tempo La storia Ha un grado Di imprevedibilità È un effetto Domino Sì Anche Anche Cioè fondamentalmente Dovevo arrivare lì Più o meno Fondamentalmente Questo Vai Sì perché poi Volevo arrivare Proprio qui Nel senso Io adesso Di che cosa sto parlando Di imperi Quindi che vuol dire Di ordine Dell'ordine Delle cose Che Viene stabilito Attraverso Tutta una serie Di processi Per fare cosa Controllare La popolazione Fondamentalmente Affinché Faccia ciò Che è comodo Al sistema Dominante Oggi ci sono Dei granelli Che possono essere Dare molto fastidio All'ingranaggio E ci sono Degli aspetti Infiniti Da valutare Sotto questo Punto di vista Perché Noi parliamo Oggi Della percezione Che hanno Le persone Di questo Ma la percezione Per la maggioranza O comunque In gran parte È determinata Dalle influenze Che ricevono Queste persone E quando noi Parliamo di informazione Indipendente Ma stiamo su piattaforme Che si chiamano Google, Amazon, Facebook E cose di questo genere Per quanto noi Possiamo voler Provare a dare Ad avere Un'influenza Un'incisività Nell'opinione pubblica Comunque Ci abbiamo Dei grossi limiti Perché Sono queste Grandi aziende Che determinano L'opinione pubblica Fondamentalmente Ma All'interno Di tutto questo Oggi Secondo me A differenza Del passato E su questo Poi ci siamo pure Confrontati a volte Con Arnaldo Ci sono Tutta una serie Di meccanismi Che possono rompere Questo gioco E Ve la dico Brevemente Io Vedo la possibilità Poi non dico Che sarà così Ovviamente Però vedo La possibilità Di avere domani Un essere umano Più libero Più libero Nelle idee Più libero Dalla fatica Del lavoro Più libero Negli spostamenti Nel mondo Più libero Anche nel Coltivare Una famiglia Dei progetti Personali Cose di questo Genere Sempre Facendo i conti Col fatto che Il terreno Che stanno Che si sta Conformando È comunque Imposto dall'alto Perché In qualche modo Il terreno digitale È completamente Colonizzato Dalle grandi piattaforme Quindi noi Parlavamo ad esempio Dell'intelligenza artificiale Come questo strumento Potrebbe Visto che è a disposizione Di tanti Dare proprio Degli strumenti In più Alle persone Per rendersi Indipendenti In milioni di modi Certo che però Poi se questa Intelligenza artificiale Viene rilasciata Col contagocce Viene censurata In qualche modo E Sistemi sempre più All'avanguardia Li detengono Loro Piuttosto che Darceli a noi Ovvio che ci sarà Sempre una disparità In qualche modo Come si collega Tutto questo Al discorso politico Non lo so Fate voi Cosa volevo dire Non lo so Ma l'ho detto bene Sono d'accordo Infatti Quando si parla Di sovranità Spesso si dimentica Un aspetto essenziale Oggi della sovranità La sovranità Digitale Perché è evidente Che se poi Tutto passa Da dei servers Che stanno Dall'altra Tecnologica Sì 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 Nel senso Quando uno dice Voglio essere sovrano Come nazione Si parla di sovranità Territoriale Di sovranità Agroalimentare Di sovranità Geopolitica Monetaria Tra le più importanti Sovranità culturale Peraltro Voi Non so se avete mai Affrontato La questione Della lingua Ora Il fatto che la nostra lingua Sia sotto attacco Violento In questi anni Con l'introduzione Forzata E tante volte Veramente Imbarazzante Di anglicismi Veramente Io Tante volte Seguendo Il calcio Mi capita Di sentire Le telecronache Palla in corner Check Offside Cazzo Offside È fuorigioco No look Passaggio no look Dico nel senso Che non ha un look Se veste male Cioè Non seguo il calcio Da troppo Che vuol dire no look No look È un passaggio Senza guardare Senza guardare Senza guardare Esatto Però vedete Uno dice ma figurati No è una forma È una forma Di autocolonialismo Perché è dalla lingua Poi che passa Anche il modo Con cui il singolo E i popoli Guardano il mondo E se stessi E se tu dimentichi La tua lingua Non è un caso Che tutti gli imperi Della storia Quando volevano Controllare Un territorio Una delle prime cose Che cercavano Di sradicare Era la lingua E tant'è che Una delle conquiste Più forti E anche da un certo punto Di vista Più violente Che fece Roma Antica La Roma Antica Sapete quale fu La conquista Della Dacia La Dacia È l'attuale Sì hanno conquistato Sta macchina Ma era bella chiusa Insomma La Dacia È l'attuale Romania La conquista È stata talmente Profonda Talmente forte Che oggi In Romania Si parla Una lingua Neolatina Cioè tu vedi Il blocco Di lingue romanze Quindi Italia Francia Spagna Portogallo E poi Staccata La Romania E in mezzo Ci stanno gli slavi Cioè la Romania Per conto suo Quindi È certo Fecero Fecero Delle Certo No 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 Questo è assolutamente Io sono un amante Di Roma Antica Non mai abbraccerei No 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 È un esempio No no È un esempio Di È un esempio Di Sì sì Proprio Gli do un bacio Sulla testa Tutti Nel senso Era un esempio Di quando La conquista È talmente profonda È ovvio che passa Attraverso Anche la violenza Quello Non viviamo nel mondo Dei puffi Però La conquista A volte È talmente profonda E va talmente A modificare Anche la popolazione Che all'interno Che lascia Una delle cose Più evidenti È la lingua E quindi E quindi In Romania Perché Perché la dacia Era piena d'oro Allora a quel punto Per loro era abbastanza finita Quando scoprirono l'oro E anche la salgemma Comunque detto questo Io Se per voi va bene Lascierei magari La parola Al pubblico Che ha subito Così Grazie Arnaldo E grazie a voi E grazie ora Felix Allora 7 marzo 2021 Alla domanda Si presentano divisi E io non sarei rimasto Assolutamente Sorpreso Perché io parto Da questo presupposto Che i soldi Non vengono solo Dal Qatar Tra l'altro Tempo fa Si parlava Di valigette Piene di soldi Del Venezuela Ma non se ne parla più Giusto Giusto per fare Una precisazione Poi Grazie ad Eugenio Che ha allargato Perdona Marco Non l'ho capito Cioè Intendi dire Che secondo te C'era chi pagava Per la divisione Eh Sì Ogni forza politica Io segui i fili Io segui i fili C'ho questa Deformazione Io segui i fili La politica La interpretò In quest'ottica qua Infatti poi vengo Alle due domande La prima Ringrazio Eugenio Che ha allargato Lo sguardo A Prato degli imperi Ho sentito Più volte da voi Dire Il potere Come se fosse Un blocco monolitico Invece Quanto è diviso Il potere Primo Secondo Chi Tornando Alla campagna elettorale Chi Si è astenuto O ha fatto Campagna Per l'assenzione Ha fatto Il gioco Dei servizi O peggio ancora Ha lavorato Per i servizi Queste sono le domande Quindi Io ho ricevuto Un bonifico enorme Dei servizi Proprio per No io non sto parlando Di te Non sto parlando Di te Vedete qua Che attrezzature Personali Ci sono figure Molto più Molto più inquietanti Tu sei un angioletto Anche con l'aspetto Forse Se ti tagli la barba Ma ci sono figure Inquietanti Nel mondo Del Di coloro Che hanno detto Non andate a votare E secondo me Su questo Ci dobbiamo concentrare Poi chiudo Con un'ultima Considerazione Quando si parla Di rivoluzionari Età Questione Anagrafiche Io penso Che La critica Che fa La controinformazione Si debba Un attimo Allargare E mettere Prendere di mira Anche la PTV Per la PTV Perché la PTV Divanizza E divanizza Proprio Quelle fasce Di età Anagrafiche Divanizza È bellissimo Ma la PTV Scusate Tipo Sky Netflix Sì Netflix Non solo Perché divanizza Quelle fasce D'età Che ancora Potrebbero fare La rivoluzione E faccio notare Che Il mainstream Si rivolge A coloro Che avete citato Gli anziani E quello È un sotto insieme Che non si Sovrappone Al sotto insieme Della contro informazione Ma invece Il sotto insieme Di chi segue La PTV Si sovrappone Anche abbondantemente Al mondo Della contro informazione E io sono arrivato A avere il sospetto Che chi fa contro informazione Non mi riferisco a voi Ma chi fa contro informazione Da decenni E c'è il chiodo fisso Con la TV E il mainstream Non tocca mai Non tocca mai La PTV Perché non vuole perdere Like Iscritti E abbonati Perché i due Sottinsieme Si sovrappongono E questo è un altro Grave errore Perché la battaglia Si vince anche Sulla comunicazione Grazie Posso dire un attimo Due cose Questo Faccio uso questo Questo tenetelo voi Intanto Sono in tammi collegati Si si Su tutto Allora Secondo me Personalissimo parere Questo tipo di considerazione È veramente Un errore grosso Nel senso che Gitkeeper Sta complottista È la stessa Identica cosa Solo che Da quest'altra parte Ora Se noi abbiamo Degli elementi fondati Per dire Che quel soggetto lì Politico O quel soggetto Imprenditoriale Che c'è quella televisione Lo sta facendo Per determinati motivi O finanziato da E allora È il nostro dovere Come operatori Dell'informazione Indipendente Renderlo pubblico Ma nel momento In cui sono solamente Illazioni queste A me può anche andare bene Fare dei ragionamenti Su questo tipo di Considerazioni Quindi Chi è pagato per Essere diviso Chi è pagato per Portare al non voto Ma forse Se proviamo a fare Un'analisi un po' più Antropologica Del fenomeno Forse abbiamo Delle risposte più reali Rispetto a queste Perché qua Se no Chiudiamo veramente Il ragionamento Davanti a delle illazioni Che non possiamo Nessuno di noi provare E che non fanno Che non risolvono Veramente niente A livello di discussione No allora Marco Guarda Io ti posso dire Da abbastanza All'interno Se non mi sono Proprio rincoglionito Io tenderei Ad escluderlo Proprio Nel senso Che io ho fatto Critiche molto dure Rispetto praticamente A tutti Anche adesso A paragone Insomma che Scusa Poi ci può stare Anche Per chiudo il concetto Che Ce l'ho Ci può stare Anche che Che qualcuno Abbia fatto Cose O preso Posizioni Per avere Più fondi Da Quello Piuttosto che Da quell'altro Perché avere fondi Comunque di far fare Una bella campagna elettorale Però questo non vuol dire Cioè secondo me Questo non vuol dire Io da quello che ho visto Nessuno ha tirato fuori Un centesimo Di società Cose Nessuno Anche perché Nessuno era interessato A questo Magari questo sarebbe stato Uno step successivo Un passo successivo Non Te lo posso escludere Però Per quello che riguarda L'astensione Specificamente Il problema Non è Spendere soldi Per convincere la gente A stenersi Casomai Le multinazionali Dovrebbero tirare fuori Tanti tanti soldi Per spingere la gente Ad andare a votare Non Il problema non è Dal loro punto di vista La mancata astensione Ma l'eccesso di astensione Per quello che riguarda Appunto La possibilità Che le divisioni Io l'ho vista dal di dentro E ti posso dire Per quello che ho visto io Non c'entra niente Gli interessi grandi Che non hanno neppure volto Lo sguardo Verso quelle forze C'entrano il Ah no Io sono meglio Devo essere io il capo Lui No 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 Io sono il capo Ma che scherzi Ma Allora io ti odio No sono io che odio te Matteo Brandi è uno stronzo Ah no è Vitangeli Questo è stato E chi comanda È stato una Poi che dietro questo Ci sia anche Non Il finanziatore occulto Perché vi assicuro Cioè Io ti posso dire A me non mi si è mai presentato Nessuno Con 100 lire A parte gli iscritti Che neanche so Cioè Che ti mandano i 10 euro Ma non Neanche ti contattano Cioè ti trovi E siccome Diciamo Ero Molto inserito All'interno Di una delle forze Politiche E a livello di comunicazione Se manco Mi hanno degnato Di uno sguardo È difficile Che poi andassero Da altre parti Con valigie Di soldi Che nessuno ha visto Ma anche perché Non è servito Letteralmente Si sono scannati Su Chi ce l'ha più grosso Come diceva Con una sottile metafora Matteo E poi Ovviamente C'è anche Un principio dell'ego Che si traduce Anche in potere E il potere Implicitamente Anche in denaro Nel senso che Se Tu hai Una posizione Più elevata Magari Hai più possibilità Di entrare in Parlamento E quindi Di prendere Un certo tipo di stipendio Se tu hai L'idea L'impressione Che tu hai in mano Un partito Che può prendere Il 3 Il 4 Il 5 Percento E' chiaro Che una volta Che sei in Parlamento Con 15 persone Arriveranno Le varie offerte Le varie Poi lì Bisogna vedere Se e chi Avrebbe accettato Io però ti posso dire Questo è Almeno Quello che io ho visto Non è una Non era una questione Di Denaro Era una questione Proprio di Primazia E di E di Controllo Di Di questi Processi Politici Cioè Ognuno Di Queste persone Che aveva Ma ti ci metto Non soltanto i leader Anche i big Vari Che aveva Visibilità E E quindi Che si sentiva In una certa misura Proprietario di una quota Parte significativa Di quel progetto Politico Sembravano Tutti terrorizzati All'idea di perdere Quel controllo Quell'influenza Quella Possibilità Di dire Si fa come dico io Perché lo dico io Questo è stato Dal mio punto di vista Il Di Di Volontà Proprio Di Prevalere Invece Te lo dico col cuore Di Cose altre Strane Non ne ho mai viste Ma neanche mai avuto Lontanamente il sentore E quello che ho visto dopo Mi conferma Che è così Perché Perché Nessuno ha avuto premi A fronte di un disastro Nessuno ha avuto premi Di nessun genere Quindi se ci fosse stato Chi si era venduto Avremmo avuto anche chi era premiato In un modo o in un altro Io invece ho avuto una Porsche Una buraco però De quelle piccole Una Porsche Una Porsche Nel pan Si esatto Quello ho preso Pan e Porsche Allora Io ho sentito un sacco Di cose interessanti Ovviamente Come mi aspettavo da voi Post storicità E maturità In particolare Sulla post storicità Mi viene da dire Di fare un esempio Che Di solito Ogni tanto faccio Che serve anche Un pochettino A far capire Che tipo di battaglia Tu stai cercando Di combattere L'istriano Del 1800 Che già immaginava L'Italia Unita È morto Senza vedere L'Italia Unita Ma il suo contributo È stato fondamentale Per vedere L'Italia Unita Quindi Molta Della Debolezza Che poi Ti tirano fuori Il museo Non è mai entrato Il palzino Vabbè Però insomma Molta della debolezza Che ti tirano fuori Sta proprio nel fatto Che punta Sull'impazienza Ed è un grosso problema È un grosso problema Perché le nostre vite Purtroppo Non sono Non sono Tanto lunghe E allora Noi ci Anzi Vabbè Non sono tanto lunghe Io l'ho scritto Tante volte Questo concetto Nei miei pensieri Nei miei articoli Tante volte E quindi Sai ci spaventiamo È inutile fare tutto Perché tanto Non si vede niente Invece questa cosa Va Combattuta Proprio sul Messaggio generazionale Che dai E poi Chiudo un attimo Su un'ultima cosa Qui mi fa pensare A un concetto Che la storia Serve al presente Non è vero Che è una cosa Ideologica Non è vero Che è una questione Che non ti serve Per agire nel presente Perché le divisioni Che avete Che hanno manifestato Loro Sono anche frutto Di una storia In cui non ci si mette D'accordo E questa storia In cui non ci si mette D'accordo Magari viene usata Per pretesto E non sto dicendo Che sia la ragione Fondante Ma tu ti devi mettere D'accordo Su quella storia Perché è Un processo Che devi sviluppare E lì si arriva Alla maturazione Che dico io Ovvero Io sostengo Da tanti anni Questa cosa Questa battaglia Secondo me Si combatte Più fuori Che dentro Il Parlamento Perché Io ho un modello Io non sono comunista Ma un modello E il modello Sono le frattocchie E le frattocchie Hanno creato Una Generazione Di elettori E di Persone Policizzate Che poi I cui eredi Sono quelli Che ci stanno dominando Adesso Ma talmente formate In modo Quasi Militaresco La loro efficienza È evidente Sugli occhi di tutti E la stiamo pagando Sulla nostra pelle Questo voglio dire Solo questo Guarda Ah no Per dire Per dire No vabbè Il discorso No Il discorso No ma Quello Sì 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 No ma Costello Spesso ne parliamo Ma il discorso Che tu hai tirato fuori Infatti prima Arnaldo ha fatto L'esempio Del fate presto Ecco il fate presto Un altro dei grandi Errori Che è uscito fuori Dall'area del dissenso Cioè la fate presto Fate presto Ah vabbè Lui non ha Non si è presentato E ha ragionato Nel fate presto Ma faci bene Fate cose Che non crollano Prepara il terreno Allora Vi ringrazio Ma questa è stata Poi una scelta Dell'intero partito Di Pro Italia Di cui io sono Rappresentante Però il discorso È questo Fate presto Fate presto È figlio Come hai detto tu Di un'epoca In cui si vuole Tutto e subito In un'epoca In cui se io voglio Un panino Clicco Se io voglio Un pacco Clicco E non solo Non voglio Aspettare manco Due giorni Voglio il prime Subito Che mi arriva a casa È ovvio Che con questa mentalità Il processo storico Che inevitabilmente Porta via tempo Dice no vabbè E non ce la faremo mai Se non succede domani Non succederà mai E se non succede a me Non conta Esatto Anche questo Sì Guarda l'esempio degli istriani È molto bello Ma ce ne sono tanti Esempi di gente Che non ha visto La vittoria Guardate che è una cosa Non è una cosa da niente Cioè un vecchio detto Quindi dice Chi pensa Alle generazioni future È colui che pianta Il seme dell'albero Sotto la cui ombra Si andanno a sedere I nipoti E lui non la vedrà Quell'albero Ma c'è Certo 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 Però il discorso è questo Quando io parlo Della posturicità E dico ha permeato Anche l'area del dissenso Il fate presto È uno degli esempi Massimi Della posturicità Essendo la storia Già decisa Ed essendo la storia Una cosa del passato Ma Ci hanno già bannati Sì No sei dal vivo Ah sei dal vivo O c'era appunto Sei dal vivo Chissà Disconnesso Ah vabbè Vedremo Vedremo Quando Quanto Sette Chiuso Ciao Come Che altro Quante telecamere Avete Allora c'è La digos Là in fondo Poi ci sta Comunque Detto questo Il fate presto È pura Pura posturicità Perché si dice La storia È una roba Che riguarda Il passato Io voglio Adesso Sapete quante volte Come pro Italia Ve lo possiamo Assolutamente Testimoniare Io tante volte Negli ultimi settimane Sto facendo su e giù Per l'Italia Da nord a sud Stato in Sicilia In Calabria In Lombardia In Friuli Dovunque E c'è sempre Quello che dice Non c'è tempo Adesso Subito Ma adesso Subito De che Guardate che Certo È evidente Ma attenzione Noi dobbiamo capire Che i nostri avversari Nemici Il problema del tempo Non se lo sono mai posto Quando 40 anni fa Voi pensate a Fantozzi Pensate a Fantozzi Fantozzi Il film di Fantozzi Andava a dipingere Un uomo Che all'epoca Era considerato Uno sfigato Quell'uomo Al giorno d'oggi Sarebbe un privilegiato Perché aveva una casa Perché aveva un lavoro Perché aveva le ferie pagate Perché aveva una famiglia Siamo ridotti Talmente male Che oggi La gente Spererebbe di essere Un Fantozzi In una sola persona Si manteneva La Pina E Maria Angela E la Santa Maria Esatto C'è un solo stipendio Di un impiegato Che aveva le ferie Che aveva le vacanze Manteneva comprando Un immobile a Roma Perché era inviato da Roma Ed era descritto Come lo sfigato Cioè è questo il punto Era descritto Come lo sfigato Infatti Va beh No no Questo vuol dire Che il processo Che ci ha portato Al giorno d'oggi A questo schifo Non è stata una cosa Dall'oggi al domani È stato Piano piano Una progressione Anzi una digressione Ok Quindi quando è ovvio A non vedere La vittoria finale Di non vedere Quel mondo Quel mondo Per cui state Guardate che Se voi rispondete Se voi rispondete Di sì A questa domanda Potreste tranquillamente Rispondere di no Siete liberi Di farlo È giusto Ma se voi rispondete Di sì Allora vi liberate Del peso Del tutto Subito Tutto ora E non a caso E concludo Magari se ci sono anche Non so se volevi aggiungere Una cosa Se ci sono anche Altre domande E non a caso Le ultime generazioni Sono quelle Del tutto Ora E subito Sono quelle Che appunto Rifuggono Dalla lotta Politica Perché dicono Ma se io dopo Una settimana Non sono cambiate Le cose Vuol dire Che non sto facendo Niente Quindi capite Parlare con i giovani Noi quando parliamo Con i giovani Che magari si avvicinano A Napoli Italia Gli diciamo delle cose Che magari all'inizio Li spaventano pure Ma glielo diciamo Chiaramente Toccherà lavorare Ed è una battaglia Lunga Lunga Cioè potrebbe durare Cinque anni Dieci anni Vent'anni Ma Alla fine Noi questa battaglia La vinceremo Sei pronto A fare questo sacrificio Sì No Se la tua risposta è no Piazzati davanti a Netflix E quello è il posto tuo Vai Ah io volevo dire Giusto tre cose velocissime Su questa cosa Una non me la ricordo Perché era la prima cosa Che aveva detto Stelio Perché ridete Se uno non si ricorda una cosa Muori torna Un attimo State tranquilli No No Volevo Non me la ricordo No Due cose Su questa cosa del tempo Era parte Dell'intervento E volevo fare prima Poi ovviamente Non ci sono riuscito A mettere tutto Però È esattamente così Cioè nel senso Ovvio che qui La problematica principale Secondo me Dei progetti politici Di oggi È proprio questa Che propone Una soluzione Nell'immediato Quando invece È totalmente finta Come soluzione Cioè non esiste Una cosa di questo genere Altra cosa Però Sempre collegata a questo È che in realtà Però le rivoluzioni Si fanno in un istante Dentro La rivoluzione Deve avvenire in un istante Altrimenti Questo processo Non inizia mai Però il processo Che porta alla rivoluzione Diciamo che la rivoluzione È qualcosa di molto meno Diffuso Nella storia Di quanto si pensa Io più che altro Parlo di proprio Una rivoluzione Interiore Io dico Del singolo Del singolo Ognuno di noi Ognuno di noi Necessariamente Deve fare un atto Di rivoluzione Molto forte Molto netto Nell'istante In cui capisce queste cose Altrimenti è già finita Cioè Se questo Se c'è tutto ciò Di cui stiamo parlando Voi l'avete capito già Ma non avete cambiato La vostra vita Statevene a casa Statevene a casa È inutile che venite qua O guardate questi video Perché Questa rivoluzione È l'unico atto Che ci può permettere Di iniziare Questo percorso E processo Di cui stiamo parlando Fino adesso La prima cosa Che aveva detto Stelio Non me la ricordo Che cos'era La ricordate voi? Eugenio Pessimo personaggio Che ci mette in difficoltà Così Eh non mi ricordo Di che parlavamo È una questione Della posturicità No L'istria 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 Ah ecco Ecco Assolutamente La storia Ottima lente La storia Bellissimo Usare la storia Come lente Arnaldo è un fenomeno A fare questa cosa qua Usare la storia Come lente Però attenzione Perché il presente È diverso Quindi È praticamente impossibile Che la storia Si ripeta Esattamente come Si è ripetuta In passato Perché le condizioni Allora Secondo me Finisco di dire sta cosa Finisco di dire sta cosa Dico Finisco di dire solo sta cosa Dico Secondo me Essendoci condizioni Completamente differenti Non possiamo Prendere i processi storici Come modelli Che si possano In qualche modo Ripetere Anzi Proprio perché oggi Siamo in un sistema Molto più liquido Molto più Atomizzato Cioè liquidità È la parte positiva Probabilmente Del processo Atomizzazione È la parte negativa Dello stesso identico processo Quindi Anche solo il cambiamento Della nostra società In questo senso qui Cambia completamente Tutte le condizioni Sulla quale Si poi si sviluppano I processi Quindi Ottimo prendere La storia come lente Per interpretare I fatti odierni I potenziali Processi futuri Ma attenzione Perché oggi Le condizioni sono diverse E quindi spesso Potremmo cadere in errore Sono dei processi Che ricordano Tanti parlano Di questo periodo storico Come Una riproposizione Degli ultimi Due secoli Dell'impero romano Si parla sempre Di un periodo Di decadenza In realtà anche lì Fu ovviamente Molto diverso La storia Non si ripete mai Uguale Ma ci sono Dei cicli Dei cicli Esatto Sono tendenzialmente Regati a Per esempio Suo L'impero romano È collassato Per ragione Vabbè Adesso lasciamo perdere L'impero romano Anche per dare parola A comunque Gli altri Sì no Due cose rapidissime La prima Noi tre normalmente Andiamo avanti la notte Quindi a una certa Iniziate a tirarci qualche cosa E noi capiamo Che volete andare E per quello che invece Secondo me Anche Matteo Motivo per cui Noi Non sappiamo essere incisivi Uno dei problemi È che noi abbiamo Metabolizzato Una mentalità consumista E nella mentalità consumista Tu devi avere Oggi Subito Quello che Vuoi Non è che puoi dire Nel consumismo Che tu hai Fai una serie di azioni Che poi forse Tra molto tempo No Il risultato deve esserci adesso Anche in termini finanziari Eccetera Questo che vuol dire Vuol dire che Quel processo Di appartenenza Alla storia Ma anche alle generazioni Cioè Noi facciamo parte Di Soprattutto i ragazzi giovani Sono stati Privati Non solo Della dimensione storica Ma anche Della dimensione generazionale Cioè Vivono In un limbo Sospeso In cui Tutto È solo ora E quello che c'è prima Non mi interessa E quello che c'è dopo Non mi interessa Contro le generazioni precedenti Ma in un certo senso Anche successive Nel senso Che ti dicono Siamo troppi Non fate figli Eccetera Per quello che riguarda Quello che diceva Lui invece su Netflix E non ti ho risposto Netflix E in generale La comunicazione È il primo E più potente Strumento Di propaganda Politica Il primo E più potente Il telegiornale Non lo guarda Nessuno Il più penetrante Anche perché Quanto è forte Un condizionamento Quanto più Tu non sei consapevole Che qualcuno Ti vuole condizionare Se io mi vedo Emilio Fede Che dice Berlusconi È il più bello È il più bravo Non ci casca Nemmeno La madre di Emilio Fede Ma Più invece Un messaggio È impercepibile Per il soggetto E più Perché io non penso Che ci sia la sovrapposizione Dalle nostre pubbliche Netflix Perché sono antropologicamente Opposti Cioè I valori I messaggi E i principi Che Veicola Netflix Sono quelli Con la principessa Disney Di colore E con Il Cavaliere Che anziché salvare La principessa È una cavaliera trans Che salva Un gatto Mutante Ma si identifica Come un drago Ma si identifica Come un drago O come un draghi Ma Il Il discorso È che c'è Un'incompatibilità Totale Non è una questione Generazionale Una questione culturale Loro sono L'avanguardia Dell'avanguardia Del walk Di fronte a un video Mio Di Matteo O di Eugenio Chiamano La polizia Quindi Non credo Che ci siamo Forse l'hanno già fatto Aspetta che c'era La domanda Ah Scusami Grazie Allora Volevo Volevo soltanto Porre Alla vostra attenzione Un paio Di riflessioni Avete detto Tutti e tre Delle cose importanti Riguardo Il problema Del mondo Alternativo Politico Il mondo Della controinformazione Soprattutto Il mondo Politico Alternativo Al sistema E il problema È che questo Ecocentrismo Soprattutto per quanto Riguarda il mondo Politico Cioè questo Ecocentrismo Fa sì Che Le idee Che dovrebbero Essere portate Portate avanti Da questi paladini Sono Sì Stanno lì Sulla carta Ma non sono Il timone Di guida Del loro Agire E qui Secondo me Ci dobbiamo fare Perché anche io Lavoro un pochino Controinformazione Con Italia Il mondo E ci dobbiamo fare Un mio colpa Anche noi Della controinformazione Cioè noi Noi non siamo Riusciti A creare Una narrativa Su cui Questi politici Chiamo politici Toscano Paragone Insomma D'Andrea Anche Anche Rizzo Se vogliamo Perché adesso Si è messo Anche Rizzo In questo mondo Si debbano Confrontare Per cui Poi alla fine Possono fare Delle liste Elettorali Che Non corrispondono A questa Narrativa Che noi Avremmo dovuto Mettere Come Diciamo Ague della bilancia Come timone Nel Lagone politico E Questo È il problema Principale Cioè creare Una narrativa Politica Che è di Contrapposizione Su cui Loro Non possono Non possono Diciamo Uscire Cioè non possono Mettere la loro Persona Al centro Rispetto A questo timone Che noi Abbiamo creato Che noi Dovremmo creare Un pochino Quello che si è fatto Nel risorgimento Un pochino Quello che si è fatto Nel risorgimento Cioè quindi Siamo Ecco Siamo In un paese Siamo in un paese Faccio un esempio Concredo Siamo in un paese Occupato No? Cioè Militarmente Politicamente A tutti i livelli Mettere alla base La liberazione Dell'Italia Dal gioco Politico Militare Dovrebbe essere Il timone Ce l'avevano tutti Tutti Non c'era partito Compreso Il Movimento 5 Stelle E la Lega Tutti Chi è che dice La riuscita La Nato Tutti Lo hanno detto Il 5 Stelle In maniera esplicita Fino a che non ha preso I deputati L'ha detto in termini Espliciti Assolutamente Io rimasi Scioccato Perché quando iniziò Il 5 Stelle Qualcuno Degli amici Mi disse Ah ma tu che sei Informato Eccetera Ma questo partito Ma che dici Io dico Ma che cos'è Ah Grillo Lascia aperte Una cazzata Poi dopo Lessi un articolo E rimasi scioccato Perché diceva Sovranità monetaria Ritorno alla Lira Ritorno alla Lira Uscita dalla Nato Uscita dai parametri Di Maastricht E io dissi Cavolo Ma cazzo Questi hanno capito tutto Qual è il problema La narrazione È già quella La narrativa È già quella Il punto è La credibilità E la volontà Di portarla avanti Perché quella narrativa L'hanno fatta tutti Perché l'hanno fatta tutti Perché su quella narrativa C'è un enorme bacino Di voti E quindi Te la dicono tutto Tutti ti dicono Rizzo vuole uscire dalla Nato Paragone vuole uscire dalla Nato Paragone per esempio L'ha scritto su articoli Che la Nato era Sì ma poi Questo prima Della campagna elettorale Poi in campagna elettorale D'ha detto Paragone ha fatto Il partito che si chiama Italexit Adesso si chiama Già Ha cambiato nome Per l'Italia con Paragone Eccetera Che già Per l'Italia con Paragone Da Italexit C'è una bella differenza Vi ha raccontato Che lui è Vabbè Qual è il punto? Non sono d'accordo con te Nel senso che Io temo il contrario Cioè Che su quelle parole d'ordine Su cui si sa Che si aggrega il consenso Si muovono tutti Poi una volta che i voti Me li hai dati Ce penso io Come eviti questo? Con le prassi Perché se io metto Persone Che rispondono direttamente Perché hanno fatto Una legge elettorale Che ha tolto le preferenze Perché se io dovevo Andarmela a cercare Le preferenze E andavo A fare i comizi A fare le cose Dicendo Io Forza Dicendo Io Non firmerò Il mess E poi dopo Io voto A favore Del mess Quando io mi ripresentavo A dire Dai a me la preferenza Mi sputa in faccia Ma se non c'è La preferenza Tu puoi solo mettere Una croce Su uno Sull'altro In base alla narrazione Quindi ci sono Narrazioni che sono Di tutti i tipi Ma che non portano A nulla Intanto ti chiedo Di passare il microfono A Francesco E Aggiungo una cosa Di dieci secondi Quella di cui parlate voi Non è una narrazione Sono punti programmatici È diverso La narrazione È una cosa Molto più profonda Perché io posso dire Esattamente come le persone Che ho qui davanti Che sono per l'uscita Dall'Unione Europea Questo non significa Che abbiamo La stessa narrazione È della narrazione Che si innamorano Le persone Non dei punti programmatici La sfida Del comunicatore Tu dici Deve pensarci La controinformazione A creare la narrazione No Quello Ha a che vedere Con la cultura Che è più potente Della controinformazione La controinformazione Può darti le lenti Per leggere ciò Che accade nel mondo Ma è la cultura A darti la narrazione Netflix L'ottimo esempio Ti dà una narrazione Del mondo Che fa schifo Che fa ridere Quello che vuoi Ma è riconoscibile Se tu vedi Una serie di Netflix Tu sai Che Qualsiasi rimando Ad esempio All'amore Verso Le proprie radici È demonizzato Ridicolizzato O osteggiato In mille modi diversi Non nella stessa maniera In mille modi diversi L'odio Verso Qualsiasi concetto Di bellezza Che è Tra l'altro Un te Devo dire che Questo me l'ha attaccato In maniera Profondissima Ma io a tutte le persone A cui ho attaccato Questa malattia Profondissima Eh io Io sono A me mi ha professionato Ma quello Quello è un ottimo Un documentario Perché sono anni Che questa cosa Mi devi chiamare Per il documentario Così io farò Farò La questione Dell'architettura Ad esempio Quella è una narrazione Nel senso L'architettura Di stampo globalista È il Cupone Ma non perché Quella non è incapacità Quella è perché L'architettura Di stampo globalista Deve essere L'architettura Delle Città Alienanti Cioè tu non ti devi Sentire legato Al tuo luogo Ok Ti guardi intorno Dici Potrei stare a Calcutta Nuova Delhi Potrei stare a Berlino Potrei stare a E' un cubone Che mi dice Che il cubone Ok Quell'idea lì di mondo È potente E la Porta avanti la cultura Non la controinformazione Controinformazione Io posso fare Come dice lui Io faccio un documentario In cui Dimostro Come hanno distrutto Il concetto di bello Di architettura Di urbanistica A misura di uomo Ma quel progetto Lì Quel processo È stato fatto Attraverso la cultura Perché piano piano Alla gente È stato messo in testa Che se vuoi fare Una cosa moderna Pensateci un attimo Immagina una città moderna Palazzoni Cuboni Ma chi l'ha detto Perché quello È moderno Ma quella è una cosa Che è entrata nella testa E ci sono riusciti Come un martelletto Toton 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 Fino Perché c'è un significato simbolico Ma sì ma ci sono tutti Non è soltanto È un'idea Attraverso le Corbusier Ve ne poi imposta Cioè È l'home economicus Qual è la differenza principale Che voi vedete Certo stiamo andando proprio su La lascia No vabbè Ve la taglio Se volete la riprendo Posso dire in seconda una cosa Certo scusa Io sono d'accordo con te Nel senso che È sempre la narrazione Che crea il contesto E poi crea anche le condizioni Per portare la narrazione Appunto nella realtà Però chi è che mi sa dare Una definizione di narrazione Vediamo se qualcuno Mi riesce a dare Realmente una definizione Di narrazione Vai Aspetta Vediamo nel pubblico Vediamo tra il pubblico Intanto Cioè è una narrazione Già La fine della storia Di Fukushima Degli microfono Però per favore scusami La fine della storia Di Fukushima Che i talebani Evidentemente Non hanno letto E infatti hanno sparato Gli americani Per vent'anni Pure male Perché hanno fatto Solo 2500 morti Non so se lo sapete E il triplo di feriti Però per vent'anni Non è un gran sparare Però si sono liberati Quindi Quando io parlo di narrazione No Scusate se sono un po' brutale Da questo punto di vista È quello che c'era Nel risorgimento C'era una narrazione Che dovevamo riprenderci Il destino Delle nostre mani E quello Era il timone Dei politici Del tempo Perché chi sviava Scusami Chi sviava Da quel timone Da quella linea Veniva Additato Come ha venduto Agli austriaci Ok E questo è quello Che è mancato Secondo me In noi Che facciamo Chi più Chi in grande E chi in picco Contro informazione Perché Peraltro Il ministro della cultura Purtroppo non ce l'abbiamo E non ce l'abbiamo Neanche i fondi Quindi Quando facciamo Queste trasmissioni Chi c'ha 10.000 Chi c'ha 50.000 E così via Per arrivare a più blu Che ha i massimi livelli Nel nostro campo E noi dobbiamo fare tutto Noi dobbiamo fare tutto No dico come numeri Come numeri Di spettacoli Noi dobbiamo fare tutto Per creare Un qualche cosa Per cui Questi bravi parlatori Che sono i politici Del nostro ambiente Si devono però Attenere E non Pensare soltanto Al loro ego Ma Seguire Quella Però non mi hai risposto Qual è la definizione Di narrazione Perché poi Cioè Quello che stai dicendo In realtà Io lo vedo Nella nostra realtà Cioè Durante il cinema Cavolo se non c'è stata Una narrazione Il cinema Ok Durante quel cinema Con il numerino Cavolo se non c'è stata Una narrazione In un'area Molto solida E In contrapposizione Ad un'altra narrazione Però Quindi La domanda La domanda La facevo Per questo motivo Ti posso rispondere Con Una narrazione Una definizione Di narrazione Finisco La domanda Facevo per questo motivo Qui Io sono convinto Di una cosa Le narrazioni Sono il packaging La confezione Di qualcosa Non è la realtà Quindi Sicuramente Noi possiamo In qualche modo Alimentare Una determinata Narrazione Ma Facendovi Tenendovi a mente Che non è la realtà La realtà È comunque Qualcos'altro O comunque Una narrazione Poi va portata Nella realtà Perché rimaniamo Nel Quella roba lì Non esiste Quelle cose lì Fanno male Però poi Alla fine Perché loro Pur essendo Estremamente poveri Estremamente Ignoranti Hanno fatto Un'azione Che segue La loro idea Che ha seguito La loro idea Di realtà La loro narrazione Quello che manca A noi È quello Che Alla nostra idea Propositiva Poi Non riusciamo A fare Delle azioni Concrete Cioè Non siamo Mazziniani Cioè Non siamo Degli intellettuali Non Mazziniani Nel senso Per Mazzini L'intellettuale L'intellettuale Era Una persona Che a un'idea Faceva seguito Un'azione Questo è il problema Chi è? C'era qualcun altro? Scusate Io ho sentito Molte cose Questa sera E mi piacerebbe Magari una sola domanda Poi La considerazione Parte da un discorso Se Osservando Il dato antropologico Questa è la mia percezione Parlo della mia percezione Avete fatto un po' I preamboli Quindi un attimo Parlo della mia percezione Io da 24 anni 26 anni Faccio Diciamo Il reporter Di provincia Ok Quindi Andando anche Sì Grazie Ti voglio bene Anch'io Essendo Reporter di provincia Può capitare Che guardi La cosa piccola Però Se stai In una certa città Che non è Roma Vedi anche Tanta politica Vedi anche Tanta politica Di un certo livello Poi quando vai a Roma Vedi un'altra politica Di un altro livello Poi quando vai all'estero Vedi un altro tipo Di politica pure E vedi Non solo la politica Vedi gli industriali Poi studi un po' La storia Non sono uno storico Però sto sempre a contatto Con gli storici Magari Non sono uno storico Però Vedi che nella storia C'è Una narrativa Quindi per tornare Per tornare al discorso La narrativa Di Eugenio Ad oggi Siccome viviamo In una società Diciamo All'Arnaim Della percezione In cui anche Il discorso Psichiatrico Della percezione Non è detto Che sia Misurabile Quindi una società Cartesiana Che però Non riesce A essere Cartesiana Completamente Questo è il mio Punto di vista Una società Che vorrebbe essere Proiettata Nel discorso Cartesiano Quindi l'uomo Economico L'uomo che Siccome gli funziona La macchina Allora deve sempre Vedere tutto Col funzionamento La macchina Però Alla fine Stiamo qua A parlare De cose Perché ci sta L'incertezza Cioè se no Che staremmo a fare qua Tutto definito Post storico Quindi post storico Ma no Di più alla Fukuyama Perché il discorso Il post storicismo Di Fukuyama La problematica Che io ho osservato Su La questione Dell'osservazione diretta Quasi lo spiare È che Non c'è la storia Perché le persone Non la vogliono La storia Perché non la vogliono La storia Perché ci hanno Per l'appunto Netflix Il supermercato Nauto su 3 Il SUV Roma è piena di buche Ma c'è il SUV Che è alto 60 cm Ad era Non c'è a fondo Motorino Gli è successo A qualcun altro Quanto succede a me Sono tutti 30.000 avvocati E questa è la cosa Cioè nel senso Questo è quello Che uno può osservare Nel tempo E nell'area Della nostra problematica Che è un'area generazionale Qual è l'area generazionale? Secondo me L'area generazionale È sempre Post bellica Come momento fondante Cioè Non è Mattei È De Panker De Panker Non è Mattei È Boldrini Non è Mattei È Nunzio apostolico In Germania Sia nell'area Di Monaco Sia nell'area Berlinese E poi diventa Papa Come faceva A non sapere Hitler È La Fabian Tante cose Di cui si parlava È Le dinastie Non solo Quelle economiche Anzi Perché l'economia Poi dopo uno va a vedere Magari le dinastie Quelle economiche Arrivano prima Di altre concessioni Di dinastie Che stanno lì Per altri motivi Quindi la guerra La faccenda è che La guerra alla fine Secondo me Cioè Io Cerco sempre di fare domande Su quello Perché non viene mai fuori Il discorso Facciamo la moneta nuova E con la moneta nuova Rivoluzioniamo tutto Perché non te la fanno fare Perché hai perso la guerra E perché Che vuol dire Che hai perso la guerra Che se io dico Una cazzata in più Qua dentro Magari già C'è qualcuno Che mi preleva E mi porta via Questo vuol dire Hai perso la guerra Oppure vuol dire Che a Gaeta C'è la sesta flotta Hai perso la guerra Però Stai nel post storicismo Perché Quelli che C'hanno la sesta flotta Ti dicono anche Supermarket Quindi è vero Quello che dice Matteo La problematica Del Lo strappare Le terminologie Il modo di fare Che noi abbiamo dato a loro Perché Massimo Pignelli È quello che ha fatto La metropolitana di New York Gli abbiamo insegnato noi Come essere Tedeschi della Bauhaus Quando neanche i tedeschi Della Bauhaus Volevano fare È la verità Cioè noi abbiamo detto Ti faccio un esempio Ti faccio un esempio Qualche mese fa Sul canale Youtube Di Pro Italia Abbiamo lanciato un reel Un reel sarebbe Per chi non lo sapesse Un video Eh ma purtroppo In quel caso Io ad esempio Non è un problema Non ho short Cioè È un video Un corto No corto è diverso Corto e verticale Corto è Diciamo che È un video corto Verticale Dedicato a Colui che Lavorò All'autostrada del sole Ci hanno fatto Un film Che si chiama La strada dritta Grazie E c'è un pezzo In cui questo Questo ingegnere italiano Risponde a un americano Che dice Ma voi Non riuscirete mai A fare questa strada È troppo difficile Non ce la farete mai E questo ingegnere italiano Devo dire È una perla rara Perché solitamente Il nostro cinema Butta fango Sull'Italia Invece Lì sono riusciti A fare Questo piccolo Piccolo monologo In cui questo Ingegnere italiano Dice Guardate che Quando voi Stavate a ballare Intorno al totem E noi facevamo Strade Cioè noi facevamo Strade I ponte Dice Il ponte Sant'Angelo Sta ancora lì in piedi Abbiamo pubblicato Questo Questo piccolo video Perché Nella nostra Narrazione L'amore L'amor patrio È essenziale Quello che ad esempio Manca Agli antisistema De sinistra Perché oggi Hanno gli antisistema De destra Che hanno difficoltà Con il concetto Di politiche sociali Ma hanno capito Quanto è importante L'aspetto identitario Gli antisistema De sinistra Hanno capito benissimo L'aspetto economico Sociale Hanno problemi Col concetto identitario Questa è una differenza E ognuno fa la parte sua Sì sì esatto In negativo Ognuno fa la parte sua Esatto Adesso per il discorso Il discorso della narrativa E' un genio Perché dopo devo fare la domanda E devo scappare via Sì sì guarda Cinque secondi Dopo che abbiamo pubblicato Questo video corto La maggioranza Dei commenti Erano di italiani Che dicevano I romani Non hanno niente a che fare con noi Noi facciamo schifo Si si è visto come costruiamo Si è visto sul Ponte Morandi Una serie di commenti Atti a autosabotarsi Inutili Peraltro Stupidi poi Spesso e volentieri Ma di gente E allora Nella questione della storia La gente rifugia dalla storia È verissimo La gente ha paura della storia Però attenzione La gente è anche triste Certo Noi viviamo una società Triste proprio perché sta fuori dalla storia È triste però Bella sazia ancora Anostante le bollette Sì sì Ma è il discorso del Sta arrivando Però intanto È sempre quello Quindi c'è C'è questo discorso Questa è la cosa Di un post storicismo Però la domanda Per l'appunto Devo scappare via La domanda qual è Per l'appunto Devo scappare via Oppure Uno c'è un bambino piccolo E aspetta un momento In cui O crolla l'impero Tala Socratico Atlantico Diciamo L'impero del sole 24 ore Non del giornale Oppure C'è c'è La domanda qual è Aspetta La domanda qual è C'è Nella vostra visione Un modo in cui La società dei giovani O la società che va In qualche modo Istruita Può andare in una condizione Di contrasto Cioè qual è veramente La vostra visione Nel pratico Un po' di idee pratiche Pratiche proprio Tipo Andiamo a tirare fuori I fiori Dalle zolle Una cazzata Ma la domanda vera No la domanda vera è Ma se devo andare via Dove? Devo scappare Esatto Nell'isola di Tule Scappiamo nell'isola di Tule A nord della California Staccati C'è tingiamo i capelli Andiamo lì C'è tingiamo i capelli Quella la domanda è Un po' di cose pratiche Perché noi stiamo molto analizzando Ma non per farvi un discorso Per dire cose pratiche No La tua domanda è sacrosanta La tua domanda è sacrosanta Quindi che facciamo? Quindi che dobbiamo fare? Secondo voi Non è che vi prendo La risposta che ti posso dare io Non è la risposta È una delle risposte Per dire che ci sono risposte Una delle risposte Che a mio avviso E ti parlo da appartenente Della segreteria di Pro Italia Ma ti parlo da persona Che crede fortemente Nell'azione politica Io credo che i giovani Come hanno fatto i loro padri Come hanno fatto i loro nonni Debbano tornare a fare Attivismo reale Come si faceva una volta Non su Telegram Su Whatsapp Su Youtube Sono strumenti Importantissimi Ma quello che abbiamo fatto noi Questa sera Stando qui Dal vivo Confrontandoci Guardandoci negli occhi Vale come Mille video di Youtube Vale come Mille canali Telegram Questo Da questo Ci hanno strappato Con la visione postorica Di cui ti parlavo Perché hanno distrutto Il sistema partitico In Italia Imponendoci Questo bipolarismo Ridicolo All'americana Democratici Repubblicani Centrodestra O centrosinistra Perché ti portano Ti devono portare via Dall'azione pratica Dalla militanza Sul territorio Che è lunga È difficile E soprattutto Ti porta via Un sacco di energie Il discorso Che dicevamo prima Siete pronti A non vedere La vittoria Questo è il discorso Il giovane oggi Voi direte È stato Rimbecillito I giovani oggi Non sono né stupidi I giovani oggi Per descriverli C'è solo una parola Sono spenti Spenti E quindi per riaccenderli Non hanno bisogno Di discorzoni Di discorzoni Dele fa pure mattarella Sui giovani Il giovane Lo devi attivare Mettendolo a fare Mettendolo a lavorare Quindi hai 16 anni Hai 17 anni Dobbiamo organizzare Questo banchetto Dobbiamo organizzare Questo evento Dobbiamo parlare Con quell'assessore Vai Fatti un mazzo così E io posso garantirvi Perché l'ho visto Con i miei occhi Che quando tu Un giovane Gli metti in mano Una responsabilità Magari farà un sacco Di boia Perché le fanno Sono giovani Ma porca miseria Li vedi finalmente Oh Una scintilla Dietro quegli occhi Finalmente Vita C'è vita Io parlo di giovani Ma non per una questione Retorica Perché se Noi non ci riprendiamo Quella fascia lì E nelle nostre manifestazioni Diciamolo chiaramente L'età media Era alta I giovani Libro Italia Potrebbero Per esempio Idee del cavolo Fare delle Dei piccoli gruppi Che sistemano Che ne so I marciapiedi Questo tipo Questa forma di Pseudo abusivismo Però Di aiuto Ripulire un po' La strada romana Cioè non lo so Non lo so Però capito Idee di questo genere Potrebbero essere portati Verso questo Allora Francesco Un attimo di ordine Fermi Buoni di tutti Perché siamo Verso 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 la chiusura Guarda Cinque secondi A lui Ti do subito la parola A te Cinque secondi Quello di cui tu parli Di cui tu parli È una questione Che ha a che fare più Con il Facciamoci vedere Io mi ricordo I primi momenti 5 stelle Si tappavano le buche Per strada Si puliva il parco Per carità È una bella cosa Ma Non c'è tanto bisogno Di questo C'è bisogno che i giovani Imparino a scontrarsi Politicamente Come si faceva una volta Il conflitto sociale È una cosa positiva Diciamolo chiaramente E quando non c'è Questo conflitto Che è la morte I giovani devono trovarsi In situazioni del genere Scontrarsi per le idee Attenzione Io non sono d'accordo Che non si possa Io capisco la difficoltà La difficoltà La difficoltà C'è tantissimo Assolutamente c'è Però La grande La grande sfida È riuscire A comunicare Attraverso quei canali Che Riguardano più L'aspetto Della cultura Netflix Cioè Per me Se il nostro mondo Tirasse fuori Per dire Una serie tv Uno spettacolo Un concerto Pensate al primo maggio Quello che è È un manifesto politico Ok Se noi Riusciamo a fare Quella roba E loro due Che mi seguono Lo sanno Quante volte Mi sono sgolato Dice Noi dobbiamo Fa questo Contro cultura Basta con 3000 interviste Io per questo Nel mio piccolo Magari faccio il cinegiornale Perché bisogna Fa qualcosa di diverso Allora lì Si apre un'autostrada Anche perché Ripeto I giovani Non sono stupidi Sono spenti Appena li accendi Sono tuoi Il punto Io provo Provo a dare Una definizione breve Sì 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 Allora io sono convinto Di una cosa Non puoi evadere Dalla prigione In cui sei Se non la conosci Perfettamente Quindi Quello è il primo passo Stile Uscire da Matrix Vedi Ce l'abbiamo qua Secondo aspetto Giovani Certo Il problema Sono i giovani Cioè nel senso Il problema è che Non ci sono i giovani Però ci sono E io ve lo garantisco Cioè Vi ci metto proprio Tutte e due le mani Sul fuoco Sul fatto che I giovani Che vogliono fare le cose Ci sono Uno sta là Altri stanno Nei miei gruppi di lavoro Altri ogni tanto Ci scrivono qualche mail Aspetta Fammi finire tanto Non ti senti registrazione Quindi si sente solo L'interruzione Quindi Passaggio due Conosciamo la prigione Prima di tutto Ma poi Diamo anche a sti giovani La possibilità di esprimersi E di fare le cose Creiamo degli spazi Per Permettergli di fare le cose Che possono essere Spazi professionali Spazi di attivismo politico Spazi culturali Però Nel momento in cui Vediamo che Spesso ci sono Delle forze Giovani Che si propongono Perché sentono Che hanno un'istanza Dentro Che li porta La maggior parte Delle volte Trovano le porte chiuse I giovani Quindi Principalmente Questa è un'altra Delle nostre grandi responsabilità Che ci dovremmo prendere Un po' di più Probabilmente Io ci metto Veramente dieci secondi Allora Io provo a dare Una definizione Sul discorso Ah scusami Tanto io sono rapido A proposito di giovani Secondo me Il punto è questo Che si deve cambiare La narrazione Ma io non condivido La definizione Che avete dato di narrazione La narrazione Sono gli strumenti Attraverso cui Si interpreta la realtà Quando tu dici Nel Durante il risorgimento Si diceva Dobbiamo cacciare L'austriaco Sì a lui Non è Una narrazione È l'effetto Di una narrazione E la narrazione Tu sei un italiano Essere italiano L'azione viene Dopo La narrazione Sono gli strumenti Attraverso cui Tu interpreti La realtà Il loro potere Consiste nel fatto Che loro hanno in mano Questi strumenti Per cui Giovane Vecchio Cappare le buche Secondo me Non serve a niente Cioè serve a chi ci passa Ma non è questo Anche perché Comunque I ragazzi Uno dei problemi Dei ragazzi È che sono interamente Occupati In una serie di attività Tennis Suolano la cosa Quelle almeno Diciamo di famiglie Che possono permetterselo Fanno duemila attività Non serve a niente Cambiare la narrazione Vuol dire cambiare Gli strumenti Con cui noi Osserviamo la realtà E attraverso cui La interpretiamo E vale anche per i nostri Perché quello che è mancato È la narrazione Non nel senso Non uscire dalla Nato Lo dicevano tutti È nel senso Tu sei sovranista Perché sei uno Che non delega La tua sovranità Non la deleghi a Bruxelles Non la deleghi a Mattarella Non la deleghi a Paragone Questa è la narrazione Infatti Il fatto che Gli italiani Accettino il vincolo esterno Non gli è stato venduto Come quanto è bella L'Unione Europea La narrazione è Quanto fai schifo tu Quanto non esisti E questo automaticamente Ti porta a invocare Un vincolo esterno Perché se io non ce la faccio Da solo E questa La narrazione Tu hai fatto l'esempio No ma L'esempio del risorgimento Sono d'accordo Con quello che ha detto Arnaldo La narrazione del risorgimento Era quella Romantica Cioè Il romanticismo Cioè Tu sei italiano Il risorgimento è pieno Di Simbolismi E di Come dire Di rimandi Alla Roma antica Che è esattamente Quello che successe Ad esempio Nel rinascimento Rinascimento La narrazione del rinascimento Guarda Alla classicità Questo poi Dà vita Alla nuova architettura Al dipinto Ma la narrazione è questa Riprendiamo Quel discorso lì Quindi la narrazione Per attivare Ad esempio I giovani Dovrebbe essere Ad esempio Tu Non è vero Che sei Un essere Un bipede Che cammina Per caso Nel mondo Che nasce Per caso In un punto Del mondo Dietro di te C'è una linea C'è Un racconto C'è una storia Di cui tu fai parte Ecco già questo Magari il giovane Comincia a Pensarla In maniera diversa Sì Giusto Giusto per concludere La risposta di prima Perché poi Nella fretta De uno Si perde sempre le cose L'altro elemento Secondo me Su cui bisogna Veramente Un attimo Fermarci E cercare di capire Anche come interpretarlo E Appunto Proprio a livello Di narrazione Spostare La narrazione Che hanno Cioè Spostare Diciamo Quest'idea Che oggi Ancora Nonostante tutto Permane Dell'essere dipendenti Del cercarsi Del cercarsi Un lavoro Del cercarsi Un posto All'interno Della società Di un certo tipo Se solo si capisse Che Oggi Si può Cominciare a ragionare Di libertà finanziaria Per i giovani Parlo soprattutto Di Sovranità Sostenibilità Autonomia Principalmente individuale All'interno Di una Opera Che tu fai Nel mondo Che riguarda Anche il tuo lavoro E cavolo Se già si cominciasse Un po' di più A Spostare L'attenzione Su questo aspetto Qui Probabilmente A cascata Diventeremo Meno dipendenti Anche di tutte Quelle entità Sovranazionali O No Non c'è una narrazione Perché la ragazza Che fa No ma io Rispondevo alla domanda Sua di prima Quali sono Le azioni concrete Che possiamo fare noi La ragazza che fa Il video su OnlyFan E guadagna 30.000 euro al mese Si è Emancipata Dalla dipendenza Finanziaria Dal capo ufficio Ma All'interno Di quella narrazione Quindi Io Guadagno 30.000 euro Perché faccio vedere Le tette su OnlyFan Dopodiché Spendo quei 30.000 euro Per la borsa di Gucci Perché se ho la borsa di Gucci Io sono una che conta E per andare In vacanza Alle Maldive Così faccio il selfie Da mandare all'amica Per farla rosicare Tu non ti sei liberato Da niente Non è La dipendenza economica È l'effetto Della dipendenza Psicologica Che è a sua volta L'effetto Dell'assunzione Di una narrazione Ostile Da parte di Bisogna andare Più alla base Ancora più profondamente No ma infatti Far vedere una finestra Che c'è aperta In questo momento E quello è il punto Senza per forza Cadere in OnlyFans Ovviamente O nel meccanismo Del consumismo Però posso dire una cosa Questo è un esempio È un esempio Di strategie diverse Io ad esempio Prediligerei Una narrazione Più collettiva Che singola Diventa in periodo di te stesso Oppure Oppure No io ti dico Faccio un esempio Faccio un esempio Noi ad esempio Noi ad esempio In Pro Italia Stiamo lavorando Stiamo veramente Ci stiamo facendo in quattro Per lavorare A una nuova Potremmo dire Ideologia Quindi un modo diverso Di vedere il cittadino Nei rapporti dello Stato Ok E la grande sfida È capire che oggi Paradossalmente Nell'area del dissenso C'è una spinta Molto liberale Eppure quest'area Si contrappone Al neoliberismo Com'è possibile? Perché il neoliberismo Come ha detto Arnaldo Ti dà una falsa libertà personale Tu sei libero Di essere ciò che vogliamo noi C'è anche una differenza Molto grande Tra il liberismo E il neoliberismo Si però No no Mi fa quello Quello che sto dicendo È questo Nel senso Nel senso Noi siamo Quella parte Che dice Ad esempio Che lo Stato Deve tornare Protagonista Nell'economia Ad esempio Una nuova IRI Lo Stato Non deve Liberare Deve lasciarsi andare A liberalizzazioni Privatizzazioni Come se piovesse Gente come Draghi Ha portato avanti Questo disegno Ma se noi Andiamo a dire Ad un mondo Che invece chiede Più libertà personali Ci vuole più Stato Per quanto sia giusta Questa cosa Perché oggi Lo Stato Ha fatto passo indietro Oggi noi vediamo La parte peggiore Dello Stato Le tasse Il green pass Ma lo Stato In tutto Nei punti Dove dovrebbe stare Ha fatto passo indietro Ok Ma se noi Andiamo Certo Ma se noi Andiamo a dire A questo mondo Ma se noi Ma se noi Andiamo a dire A questo mondo Che ci vuole più Stato Scappano via Perché No Falso Ecco Questo Ma Quello non è più Stato Quello non è la Estensione Dello Stato Nei processi No guarda che Guarda che Quello che ha detto Francesco Esatto Quello che ha detto Francesco È Una tematica Che sta spaccando L'area del dissenso A cui noi Dobbiamo dare una risposta Perché la gente Oggi Se gli dici Più Stato Pensa ma come Lo Stato Quello che mi è venuto in casa A imporre le punture Del Green Pass Però Certo Ma il discorso Esatto Ma il discorso È che quello Quale Stato Su che parlo Esatto E allora serve Una nuova Visione E una nuova narrazione Guarda Volevo dare la parola A Stelio Che sta aspettando La 25 Avete Avete anticipato Praticamente tutto Quindi non ho nient'altro Da aggiungere L'unica cosa L'unica No L'unica cosa Narrazione conveniente Puntiamo su questo Qual è la narrazione Conveniente Negli interessi Di tutti Quello è il problema Fondamentale Ragazzi Facciamo Gli ultimi due interventi E poi chiudiamo Anche perché sono le 8 e 25 Deve arrivare la retata Allora rapidissimo Definizione di narrazione Il racconto Delle classi dominanti Per continuare a dominare Esempio Di narrazione Il corvo Ha sempre goduto Di pessima stampa Dove per pessima stampa È da intendersi Letteratura Menestrelli Giullari Pittori Scultori E quant'altro Uccello del malaugurio Uccello che porta sfiga Qual è la colpa Del corvo Cattive frequentazioni Il corvo Vola Individua le carogne Le vuole mangiare Ma non riesce Se sono mammiferi A lacerare La pelle E la pelliccia Gli servono Denti più acuzzi A terra Ci sono i lupi Che guardano in alto Vedono il corvo Capiscono che c'è La carogna Vanno sul posto Banchettano per primi E poi banchettano I corvi È partita la sigla Di qua Quindi La colpa La colpa Del corvo È la cattiva frequentazione Il lupo Il problema È il lupo Perché il lupo È stato sterminato E rinchiuso Nelle riserve Modello Sociale Inaccettabile Per le classi dominanti Il popolo Non doveva Averne cognizione Fate un parallelismo Con i pelle rosse Identico Sterminati E rinchiusi Nelle riserve Grazie a tutti Per essere venuti Qua stasera È stato fantastico Alla prossima La prossima volta Facciamo una cosa Come quelle che facciamo Noi veramente Vi presentiamo Vi venite alle 10 Con la roba da mangiare Con la roba da bere A verso le 3 Le 4 Vi abbiamo lasciato andare A verso le 3 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 Grazie a tutti.